E con questa siamo 280. Abbiamo parlato di tutte le carte che vanno nei mazzi Lentfall, proseguiamo con le altre. Oggi parliamo di Commander. E bentornati alla nuova puntata di Casual Commanders. Oggi continuiamo l'analisi delle carte di Zendikar che abbiamo iniziato nella scorsa puntata e questa volta parleremo delle carte una per una. Ci soffermiamo solo su quelle che ci sono parse più interessanti per il formato di Commander, quindi quelle un pochino più importanti. Non parleremo di tutte perché già così sarà una bella puntata molto lunga e vedremo un po' quali sono le nostre opinioni e poi parliamo di ognuna delle carte. Ok, abbiamo diviso questa puntata a seconda della color pie. Partiremo prima dai colori principali, poi dalle gold, artefatti e le terre. Le poche che ci sono perché la maggior parte sono state analizzate nell'episodio precedente. Partiremo adesso con il bianco. Partiamo con la prima carta, Angel of Destiny. È una creatura angelo-chierico con volare e doppio attacco. Quando è una creatura che controlliamo infligge danno da combattimento a un giocatore, tu e quel giocatore guadagnate vita. E la vita che avete tolto. All'inizio della nostra fase finale, se avete 15 o più punti vita rispetto ai vostri punti vita iniziali, tutti i giocatori che sono stati attaccati dall'angelo perdono la partita. Bella... interessante come testo. Cosa possiamo dire di questa carta? Allora, sicuramente ci sono tante sinergie interessanti in commander. Ad esempio una potrebbe essere Taint and Remedy, che è molto forte in questo caso perché anziché far guadagnare punti vita, gli avversari perderanno vita anziché guadagnarla. E in alcuni mazzi che magari si concentrano sul life gain, questa carta può essere molto utile per vincere la partita. Con elmo of the host, adesso mi viene in mente, avremmo altre creature che attaccano, ma dobbiamo ricordarci che avremo delle copie, quindi i giocatori non perderanno la partita in questo caso, le copie che verranno create. Sì, perché le copie vengono create già attaccanti e quindi non avranno il trigger a fine turno che dice i giocatori che sono stati attaccati dall'angelo. Quindi sicuramente non abbiamo quella sinergia che potremmo sperare, però ricordiamoci che ognuno dei tre angeli, se stiamo giocando sempre in quattro, ci farà guadagnare punti vita per i punti vita fatti perdere da tutti i giocatori. Quindi guadagneremo tre volte i punti di vita. Quindi sarà molto più facile uccidere un giocatore alla volta. I comandanti in cui giocare quest'angelo secondo me sono chiaramente tutti quelli che giocano sinergia col guadagnare punti vita. Possiamo citare ad esempio la vecchia Trostani, oppure il nuovo Eliud, anche molto interessante, o Karlof per esempio, o l'oro anche che guadagna tanti tanti punti vita, o essendo un angelo, perché no, anche in un mazzo tribal, contando che spesso gli angeli hanno sinergia col guadagnare punti vita. Andiamo avanti? Sì. Allora, parliamo di Archon of Emeria. È una creatura Archon 2-3, con costo di due in colori e un bianco, a volare, e dice tutti i giocatori non possono giocare più di una magia a turno, e le terre non base, controllate dagli avversari, entrano in gioco tappate. Questo è un bel pezzettino stacks, quindi si giocherà secondo me principalmente in mazzi come Grand Arbiter Augustine o God Dog Tick, quindi mazzi che tendono ad usarlo per rallentare un po' la partita e vincere magari con dei pezzettini un po' alla volta, quindi con dei mazzi fair simili ai mazzi death and access di Modern, e altrimenti sì, si può giocare in sinergia con Lavinia. Lavinia stampata nell'ultima Ravnica è particolare perché utilizza la combo knowledge pool, che è un artefatto che quando entra in gioco esilia le carte dalle cime dei mazzi dei giocatori e ogni volta che un giocatore lancia una magia, esilia quella magia che ha lanciato e può lanciare al suo posto diciamo una magia tra quelle esiliate. La cosa forte di Arcon of Emeria è che in quel momento qualsiasi giocatore lancerà una magia, la carta verrà esiliata, ma non potrà lanciare la seconda magia. Con Lavinia si usa spesso in combo perché Lavinia impedisce ai giocatori di lanciare le magie senza pagare il costo di mana. La cosa forte con Arcon of Emeria diciamo che impedisce a qualsiasi giocatore in questo caso di giocare altre magie. Quindi fermerà completamente la partita se la giochiamo in un momento in cui siamo avanti con un board completo e possiamo attaccare gli altri giocatori, gli altri giocatori non possono fare più niente se non utilizzare le carte canne in campo. Sicuramente un'ottima aggiunta a Stax. Andiamo avanti con Freida Retreat. È un'incantesima, costo 3 in colore, uno bianco con Landfall. Quando Landfall triggera possiamo scegliere tra queste due opzioni o creare una pedina 2-2 gatto-bestia e la mettiamo in gioco oppure mettere un segnalino a 1-1-1 su ogni creatura che controlliamo. Poi queste creature guadagnano cautela fino alla fine del turno. Allora, secondo me è molto buona in qualsiasi match. Sì, mazzi che garantiscono il Landdrop perché comunque è una cosa abbastanza utile, è versatile, quindi magari possiamo iniziare a fare creature. Immagino ad esempio mazzi token che sfruttano magari anche gli ETB oppure anche, non so, secondo me anche avere di per sé una creatura che ci possa permettere, anche non so, dopo un board wipe ad esempio. Questa comunque è una carta che normalmente rimane in gioco anche dopo una vratta e comunque ci permette di fare token. Mi immagino carte, non so, con Landfall ma vi avverto che ne parleremo all'infinito in questa puntata visto che la maggior parte delle carte che sono uscite sono molto molto sinergiche con i mazzi che sfruttano Landfall, che sfruttano ETB, eccetera. e un esempio può essere in commander come comandante anche il nuovo Omnath un nuovo Omnath che con Landfall fa veramente di tutto. Questa comunque è una carta che si può inserire. Non è magari una carta super sinergica però comunque fa parlare di sé comunque in generale. Secondo me la cosa bella di questa carta è che non è, come dici tu, super sinergica con Landfall. Chiaramente in un mazzo Landfall sfruttiamo al massimo la sua capacità però è molto forte a prescindere questa carta perché trasforma una terra in una delle due modalità che è molto forte nel senso che abbiamo sempre la scelta se creare body in più quindi aggiungere creature sul nostro board oppure mettere un segnalino su tutte e attaccare con cautela. Quindi diciamo le permette di essere forti in molteplici situazioni e sempre e solo con una terra. Quindi anche i mazzi che appunto che non sfruttano solo le terre la vedo molto molto utile. Sì, poi immagino anche non so, dei tribal ad esempio Rinneseri un tribal gatti può essere interessante il nuovo Akiri con gli equipaggiamenti sì, io sono convinto che comunque quando tu non hai i pezzi da far equipaggiare può essere comunque abbastanza utile. Sì, è utile perché ti fa sempre quella creaturina in più o per aggiungerci equipaggiamenti o per proteggersi sempre dagli effetti di sacrificio degli avversari e comunque possiamo giocarla sempre mettendo un segnalino pieno pieno sulla nostra o le nostre poche creature e attaccare con cautela che anche quella è un effetto molto molto utile. Sì, poi immagino anche che in generale l'endfall è sempre utile ad esempio se abbiamo una fetch possiamo sfruttare l'effetto di landfall in questo caso anche durante il turno avversario o comunque come instant quindi magari ci serve un bloccante sfettiamo e facciamo pedina o ci serve non so un segnalino per chambloccare possiamo farlo in questo caso. Assolutamente. Andiamo avanti. Allora, parliamo di Skyclive Apparition questa già giocata in modern parecchio costa 1 e 2 bianchi è una creatura core spirito è un 2-2 e dice quando entra in gioco esilia fino a un permanente non terra non pedina con costo 4 o meno che non controlliamo quando lascia il gioco il proprietario della carta esiliata crea una creatura illusione blu XX dove X è il costo di mana convertito della carta esiliata questo è molto molto forte è molto forte perché a costo 3 esilia a pezzo è quasi come un Oblivion Ring io lo vedo molto più forte per un motivo principale che essendo una creatura intanto alcuni mazzi sono più forti nel senso che riescono a tutorarla e trovarla ma la cosa molto e molto importante è il fatto di poterla blinkare cosa fa blinkandola rispetto a un Oblivion Ring in cui il pezzo torna all'avversario questa può esiliare un nuovo pezzo regalando un token a un avversario certo però è un token tra 3 4 e 4 alla peggio rimuovendo un pezzo qualsiasi che poteva essere un planeswalker un'altra creatura con un effetto molto forte sicuramente è molto molto forte sì la cosa che mi viene in mente magari è anche non lo so mi piace questa idea l'unica cosa è che in commander si tratta comunque di un formato in cui le creature sono abbastanza grosse i pezzi sono abbastanza grossi quindi magari esiliare un pezzo fino a 4 potrebbe in alcuni casi non essere super versatile però comunque fino a 4 è tanto cioè ci sono tantissime carte anche tanti comandanti a 4 ci sono e questa secondo me è un'ottima un'ottima rimozione ci possono essere non so sinergie anche con tassa che ci permettono di riutilizzarla anche il drase display sarà ad esempio una carta ottima con 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 questa creatura per quanto riguarda invece i comandanti sì quelli che sfruttano gli etb ad esempio gli orion no yarok ad esempio può essere utile brago ad esempio che blinka molto utile e anche il nuovo emiel che è una delle nuove carte che sono state in realtà mi verrebbe da dire spoilerate visto che ancora non siamo riusciti a mettere le mani sulle buste di jump start visto che ci sono stati ritardi però ad esempio emiel the blessed che è questo unicorno 1 4 4 ci permette di blinkare una creatura pagando 3 e ogni qualvolta una creatura entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo puoi pagare e mettere un segnino più 1 più 1 però ovviamente l'effetto che ci serve di più in questo caso è il primo che ci permette appunto di far vantaggio e di avere comunque un motore di rimozione che possiamo sfruttare sempre e quindi questa secondo me è molto buona sicuramente anche da aggiungere in generale possiamo ottenere sia oblivioring che questa che comunque fanno il loro dovere assolutamente ok andiamo avanti con un'altra carta che non è del set giusto? esatto questa è una carta un po' particolare perché non abbiamo spiegato nello specifico però assieme al set con le carte che vengono stampate nelle buste normalmente sono usciti due mazzi commander alcune in questi due mazzi c'erano due o tre carte se non sbaglio che sono stampate solo in quel mazzo quindi vedremo due nuovi comandanti e altre due carte e altre tre forse questa è la prima di queste ne parliamo proprio per completezza anche se non ci piacciono tutte esatto allora questo è Trove Warden costa due e due bianchi è un gatto bestia 3-4 con cautela e landfall dice ogni volta che una terra entra in gioco sotto il nostro controllo possiamo esiliare un permanente bersaglio con costo convertito 3 o meno dal nostro cimitero dobbiamo esiliare quando il Trove Warden muore mettiamo tutti i permanenti esiliati da lui con la sua prima abilità in gioco sotto il controllore sotto il nostro controllo allora questo è l'effetto di Sun Titan quindi rianimare un pezzo costo 3 che è molto forte specialmente nel bianco in cui a quanto pare nell'ultimo periodo diciamo può sfruttare questo tipo di sinergia per rampare esiliando delle Fetchland se noi pensiamo possiamo giocare Fetchland e triggerare landfall esiliare un pezzo sfacciare mettere la Fetchland nel cimitero e esiliare la Fetchland stessa quindi diciamo possiamo creare un motore diciamo per ritirarci su le terre dal cimitero il problema grosso è che la rianimazione avviene solo quando questo Trove Warden muore e questo è un grosso problema perché se ce lo esiliano se muore se ce lo spaccano in un momento non opportuno anche semplicemente se ce lo distruggono mentre il trigger per l'esilio è in pila rimarremo con il pezzo esiliato senza ottenere niente diciamo che anche questo nonostante abbia landfall non è un pezzo che va nei mazzi landfall secondo me sì ma comunque è una carta che va inserita bene cioè secondo me funziona in pochi mazzi e appunto magari il reanimator questa cosa che non sia se fosse stata leave the battlefield sarebbe stata forse anche troppo forte assolutamente però in effetti l'attivazione solo sul trigger di morte è un po' limitante questo sicuramente sì i mazzi reanimator sicuramente saranno quelli che riescono ad avere il potenziale appieno perché probabilmente hanno già pronto un sac outlet quindi un modo per sacrificarla in qualsiasi momento quindi se cercano di esigiliarcela o nel momento in cui effettivamente dobbiamo rianimare le cose possiamo sacrificarla al volo per esempio con un altare di Ashnod o di Firexia e rianimare tutte le cose senza questo tipo di sinergia secondo me è difficile poterla sfruttare appieno ok proseguiamo con il blu adesso questa volta con una carta che a me è piaciuta tantissimo che è Charix the Regging Isle che è un granchione una creatura granchio leviatano 017 a costo 2 in colore e 2 blu e dice che le magie giocate dai tuoi avversari che bersagliano questa creatura costano 2 in più per essere lanciate con 3 possiamo dargli più x meno x fino alla fine del turno dove x è il numero di isole che controlliamo da giocatore di Arcades sono un po' dispiaciuto che questa creatura non abbia difensore perché sarebbe stata perfetta nel mazzo un 017 che attacca per 12 danni non è male però in questo caso se pensiamo ad Arcades non potrà essere sfruttata esclusivamente con Arcades però Arcades è un mazzo che gioca molte o comunque diverse carte che ne aumentano la redundancy come ad esempio High Alert o Assault Formation che sono degli incantesimi che permettono di far assegnare danno da combattimento in base alla costituzione delle creature e secondo me in Arcades potrebbe comunque essere una carta interessante ci sono molte carte che sfruttano la costituzione quindi potrebbe essere interessante non la carta diciamo ideale per Arcades ma io ce la giocherei solo perché mi piace un sacco per quanto riguarda invece i comandanti Fenax può essere interessante anche perché 17 carte da millare non sono male Tetsuko Mezawa un'altra carta fantastica che ci permette di renderlo imbloccabile e poi di sfruttare la sua abilità per fare tantissimi danni in Voltron sarebbe stracarino però non so quanto potrà vedere gioco anche in Voltron probabilmente ci si può costruire sopra chiaramente il blu non è un colore così supportato però se pensiamo all'utilizzo di equipaggiamenti il blu comunque riesce a tutorare artefatti e a gestire gli artefatti molto bene quindi sicuramente ha una buona speranza anche con comandante direi sono d'accordo andiamo con la prossima la prossima è Confounding Canandrum costa 1 e 1 blu e è un incantesimo questa quando entra in gioco ci fa pescare una carta e dice quando una terra entra in gioco sotto il controllo di un avversario se quel giocatore ha fatto entrare un'altra terra sotto il loro controllo in questo turno devono riprendere in mano una terra che controllano sembra molto complicato il discorso è che quando fanno due terre nello stesso turno una gli torna in mano sostanzialmente i nostri avversari non possono rampare questo è di nuovo un ottimo pezzo per Stax è strano che sia in blu perché ci aspetteremo magari un effetto del genere nel bianco però è molto interessante diciamo che rispetto al modern magari è meno forte perché se pensiamo alle fetch chiaramente non possiamo i nostri avversari non possono giocare fetch e attivarla subito altrimenti si riprendono quella carta in mano e devono aspettare almeno il turno seguente però è anche vero che rispetto al modern appunto hanno tre turni in cui poter sfruttare quella terra anche se è entrata non nel loro turno sì poi magari in commander è invece diverso perché uno questa cosa la può spalmare tra virgolette nei turni degli altri esattamente come comandanti a me viene in mente chiaramente ma di nuovo i comandanti Stax che abbiamo commentato prima come Grand Arbiter Agustin però mi viene in mente un effetto così è molto forte e potremmo sfruttarlo come bonus per esempio giocandolo in un mazzo come Tuvasa per esempio che è un mazzo Enchantress quindi che sfrutta il fatto che sia un incantesimo molto economico a costo 2 che entra e pesca più ci fa pescare per tutti gli effetti che abbiamo effettivamente normalmente se giochiamo Tuvasa come comandante le dà anche un più un più uno e il fatto che rallenti i nostri avversari nel giocare terra lo gioco più come un bonus sì no se no gli altri ad esempio sono Yarok ma lo diremo fino alla morte Yarok e Brago che ovviamente ci fanno sfruttare le TB con Yarok lo raddoppiamo quindi pescheremo due carte e in generale mi sembra anche una carta forte di per sé cioè sta bene in tutti i mazzi secondo me già il fatto che non ci sia solo l'effetto ma ti faccia pescare anche secondo me la rende poi a costo 2 rende veramente un'ottima carta e non è l'unica carta che vedremo a costo 2 che ci fa pescare esatto esatto allora andiamo avanti con Siget's Stormcaller è una creatura umano mago a costo 2 1 in colore 1 blu 2-1 con Kikker con 4 in colore 1 blu a Kikker 4 in colore 1 blu e dice quando entra nel campo di battaglia copia la prossima instant o sorcery con costo di mana convertito 2 o meno che casti in questo turno se è stata Kikkata faremo 2 copie molto interessante mi vengono subito in mente non so ha molte potenzialità su mazzi combo mi piace l'idea non a flash questo è interessante si può carte da commander staples commander in cui potrebbe essere utilizzata mi vengono in mente demonic tutor in cui possiamo veramente cioè per i combo è fortissimo e anche neoform anzi con neoform avremmo proprio una combo se riusciamo a giocare un comandante bant neoform ci permette di saccare creatura e mettere in gioco una creatura a costo 1 più il costo convertito della creatura che abbiamo sacrificato però avendo copiato questa spell e visto che è un costo addizionale noi copieremo entrambe le spell senza dover sacrificare ovviamente un'altra creatura quindi potremmo tutorarci 2 creature a costo 3 e metterle in gioco e in questo caso la combo potrebbe funzionare con il il nuovo eliod che ci permette di dare un segnino più 1 più 1 a una creatura quando guadagniamo vita e lo spike feeder che rimuovendo un segnino più 1 più 1 ci farà guadagnare due vite e quindi questo cosa significa vita infinite poi ovviamente se avremmo anche altre carte che sfruttano i punti vita tanta roba insomma interessante sicuramente come come carta mi viene in mente anche non so se penso a mag mi viene in mente anche in alla in alla è bella utile perché ci permette comunque di creare una copia e comunque di fare di copiare magie assolutamente con in alla riusciamo a pagare 3 per copiare due volte la prossima magia esatto l'unica cosa che non mi convince tantissimo è di nuovo questo limite a costo 2 se pensavamo prima a skyclive apparition arrivava fino al 4 qui copiare una spell a costo 2 diventa molto dura chiaramente se abbiamo un demonic tutor ben venga tutoriamo due pezzi a costo 4 di più la cosa che mi viene in mente è che forse il kicker sarà poco sfruttabile molto alto per ovviamente copiare una spell a 2 o meno dovremmo comunque spendere 7 mana che ci sono carte che riescono a fare più copie in meno tempo con meno mana dobbiamo spendere 7 mana più il costo della spell esatto quindi comunque mi immagino che verrà giocato principalmente a costo 2 probabilmente sarà orientato verso mazzi combo mazzi un po' più competitivi in cui la curva è molto più bassa esatto ok andiamo avanti allora andiamo avanti su Silun Division questa è una di quelle terre MDFC quindi sul retro ci sarà una terra che dà un mana blu ed entra tappata sul davanti invece c'è un istantaneo a costo 2 e 1 blu dice semplicemente guardiamo alle prime 6 carte del nostro mazzo della nostra libreria del nostro grimorio del nostro grimorio esatto e poi rivelare un istantaneo o una stregoneria e aggiungerla alla tua mano le altre le metti in fondo al mazzo in un ordine casuale allora abbiamo spiegato come funzionano le MDFC nello scorso video e abbiamo parlato del ciclo di quelle rare e di quelle mitiche oggi vedremo un pochino quelle non comuni che ci sono sembrate più interessanti giusto per introdurre un attimino questa qua è molto carina perché chiaramente essendo una terra tutto il discorso che avevamo fatto l'altra la rende molto molto forte perché in caso di necessità possiamo giocarla tappata però siamo assicurati di avere il land drop al di là di quello è un buon peschino se pensiamo guardare sei carte per prendere un istantaneo e una stregoneria è molto molto buono lo giocheremo in mazzi che si concentrano appunto su sul giocare magie quindi spell matter generalmente per esempio o mazzi super control per esempio in mono blu baral che cercherà counter fino alla fine dei giorni talrand che magari qualche magia non counter può anche giocarla a seconda di quanto siamo cattivi o altrimenti tutta la giuda izet partendo dal parun quindi nivmizet in persona che ci fa pescare ogni volta che lanciamo instant stregoneria oppure melek che ci fa lanciare istantanea stregoneria dalla cima del mazzo anche quello è molto molto interessante perché se troviamo questa in cima possiamo lanciarla e copiarla altrimenti anche l'izmagus scusa mizix of the izmagus esatto lei in quel caso ci sconta le magie pari alla nostra esperienza e comunque sia in quel caso è comunque una carta che ha la doppia valenza di terra e di magia in un mazzo a cui ci interessa diciamo ok andiamo avanti con thieving skydiver cosa dice allora una creatura tritone farabut 2-1 a costo un incolore e uno blu con potenziamento x kicker x e a volare e quando entra nel campo di battaglia se è stato kickato prendiamo il controllo di un artefatto bersaglio con costo di mana convertito x o meno se quell'artefatto è un equipaggiamento lo attacchiamo direttamente a questa creatura allora mi viene in mente subito che rubare soldering fa sempre comodo e ricordiamoci anche che è x o meno quindi ci permette anche di rubare pezzi a zero sì però non possiamo pagarla a zero non possiamo pagarla a zero ovvio non può essere x non può essere zero c'è scritto anche nella carta però ad esempio non so anche un mana crypt non è male in questo caso non so ultimamente si stanno giocando anche mazzi con equipaggiamenti e devo dire che in questo caso anche rubare far rimanere scalzi i comandanti avversari rubando gli stivali secondo me è una buona cosa non so comandanti con cui si potrebbero giocare inizierei a parlare di Yuriko dato che non l'abbiamo ancora nominata in questa puntata e tornerà sicuramente però Yuriko sì è molto buona perché è comunque un pezzo evasivo perché costa 2 per un 2-1 volante quindi noi a turno 2 possiamo giocare questa e turno 3 già attaccare con lei non bloccata e giocare Yuriko il fatto di rigiocarla più e più volte ci permette di continuare a rubare pezzi perché il pezzo che rubiamo rimane a noi anche quando lei lascia il campo di battaglia molto molto forte poi è un merfolk è un farabutto quindi possiamo giocarla in qualche mazzo tribale li nominiamo principalmente perché c'è un nuovo comandante con il mazzo tribale farabutti da cui arriva la prossima carta sì questa prossima carta è un un farabutto una sfinge farabutto che è stata stranissima poi anche come cosa è una delle carte che dicevamo prima dei precon quindi dei mazzi che sono usciti è una sfinge farabutta costo 5 in colore 2 blu 5-5 con volare e ha prowl prowl 4 quindi 3 in colore 1 blu e ricordiamo cosa è prowl perché non è diciamo una keyword così solita insomma se lanciamo questa magia per il suo costo di prowl la possiamo giocare se abbiamo inflitto danno da combattimento a un giocatore con diciamo con una creatura con gli stessi tipi in questo caso o sfinge o farabutta dice che quando entra nel campo di battaglia per ogni avversario rimbalziamo pezzo in mano al proprietario pezzo non non terra sì non terra ma non lo so nel senso il vantaggio che mi viene in mente forse è che normalmente le sfingi costano tantissimo questa serie riusciamo a fare danno in un ipotetico tribal sfingi la possiamo giocare anche più scontata ci stiamo un po' arrambicando sugli specchi no allora sicuramente dobbiamo prendere in considerazione il costo di prowl perché giocandola a costo 4 per avere un 5 5-5 volando e rimbalzare tre pezzi è ottima è giocabile e questo possiamo farlo in mazzi probabilmente farabutti in cui magari facciamo dei token gli spiritelli farabutti di ona 1-1 volanti è magari più facile anche fare quel danno però in generale è una carta che senza il costo di prowl di prowl esatto costa 7 per un 5-5 volante non è così forte e pensiamo pensiamo a Cyclonic Rift che fa una cosa leggermente più forte esatto no l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere poi rimbalzarla sì quindi blinkarla un brago torna sempre brago ormai però in quel caso non abbiamo la sinergia per giocarla a costo 4 quindi avere un pezzo costo 7 per rimbalzare per rimbalzare tre pezzi inizia ad essere già molto costoso però se riusciamo come dici te a trovare un motore di blink magari in quel caso sì potrebbe essere interessante ok andiamo al prossimo colore nero allora iniziamo con Bloodshifterst è una stregoneria a costo 1 ci dice distruggi una creatura o un placewalker a costo di mana convertito 2 o meno però possiamo potenziarla quindi a costo di kicker di 2 e 1 nero quindi in totale costo 4 per distruggere una creatura o un placewalker qualsiasi quindi senza avere più la restituzione di costo questo è un ottimo removal in standard e limited anche e in commander non la vedo così ottimale dobbiamo pensare che a costo 1 rimuovere un pezzo è molto molto buono però la limitazione di costo 2 o meno vuol dire che placewalker prenderemo Tibalt e Brennan Six che avrebbe anche il suo perché al di là di questo Tibalt non ci sprecheremo nemmeno a usarla al di là di questi planeswalker non riusciamo a prendere niente dobbiamo andare a prendere il costo potenziato che è 4 allora in un meta magari di nuovo molto competitivo in cui ci sono tante creature piccole in cui è importante fare un removal a costo 1 nei primi turni può essere buona in un meta secondo me normale casual mettiamo sulla potenza sul 7 8 anche tranquillamente credo che non valga la pena perché la maggior parte delle volte dovremmo andare a pagare un costo di potenziamento di 3 quindi farla costare 4 a quel punto ci conviene un heroes downfall per esempio che a costo 3 siamo sempre sicuri di poter distruggere sia creatura anche placewalker sì 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 no assolutamente poi ricordiamoci anche che sorcery che vabbè ok è a costo 1 se fosse stato distanze sarebbe stata anche forte però appunto in un in un formato come commander in cui comunque le creature sono grosse in cui fortunatamente è un formato in cui riusciamo a giocare creature di questo tipo sì ci sono carte assolutamente molto più performanti però mi immagino non so in un archetipo super controlloso è comunque una carta in più da aggiungere questo senz'altro ok andiamo avanti con Drana The Last Bloodchief è una creatura leggendaria vampiro chierico 4-4 con volare a costo 3 in colore e 2 nere e dice che quando attacca l'avversario l'avversario che stiamo attaccando sceglie una creatura non leggendaria che possediamo nel nostro cimitero e possiamo farla ritornare nel campo di battaglia con un segnalino più uno più uno su di essa e questa creatura in aggiunta è anche un vampiro non male devo dire sicuramente un ottimo reanimator no? sì a me piace molto sia pensandola come comandante come dici tu come reanimator lei stessa può essere può avere molto potenziale perché ci permette di macinare qualche carta o sacrificare qualche creatura e poterla rianimare ricordiamoci il fatto di far scegliere all'avversario una carta dal nostro cimitero chiaramente è una cosa negativa per noi ma in commander non è così non è così pericolosa nel senso che spesso nel nostro cimitero avremo carte buone comunque quindi la peggiore tra le creature che abbiamo nel mazzo diciamo sarà comunque una creatura che tendenzialmente vogliamo giocare quindi sicuramente ci farà del valore e in più commander rispetto agli altri formati a quella cosa che è la politica per cui possiamo attaccare un giocatore e chiedergli una creatura specifica se anche a lui può portare del beneficio sì no interessante questa cosa non avevo pensato in effetti non so altri comandanti mi viene in mente Tazicur che più che per la sua seconda abilità mi immagino castarlo con Delve mettere le carte dentro al cimitero e poi poterle tirare su con lei non è male sì in quel caso ci permette di saltare la scelta dell'avversario esatto con Delve esiliamo le carte che non vogliamo inteso quello ovviamente possiamo anche ad esempio usare prima non so una qualche carta che ci faccia riempire un po' il cimitero e poi con Delve eliminiamo le carte che non ci servono ad esempio per costringere l'avversario a limitarlo solo a quella creatura che è rimasta nel nostro cimitero quindi sicuramente il lord delle banane potrebbe essere interessante poi chiaramente ricordiamo anche il fatto di trasformarle in vampiri potrebbe farci giocare anche con il tribal vampiri ovviamente sì chiaramente lo citiamo poi Feed the Swarm veramente bella rimozione sorcery uno in colore uno nero dice distrugge una creatura o un incantesimo incontrato da un avversario perdi punti vita pari al costo di mano convertito di quel permanente e devo dire finalmente una carta per il nero che ci permette di togliere incantesimo la gente si sta già stracciando le vesti su questa carta no abbiamo qui qualcuno potrebbe dire una rottura della color pie quindi del bilanciamento tra i colori in realtà è una cosa a cui R&D quindi la parte di design di magic stava già lavorando da tempo l'avevamo visto in Teros con Farika Salibation che è un istantaneo in quel caso che fa sacrificare a un avversario un incantesimo o una creatura a nostra scelta il tipo però non era ancora abbastanza questo ci permette di dire quell'incantesimo lì non lo voglio e lo facciamo distruggere e il downside in questo caso è perdere la vita King Commander però assolutamente sorvolabile normalmente partendo da 40 punti vita anche 5 punti vita per togliere un incantesimo molto molto forte tipo un Catarse Crusade mi viene in mente lo facciamo ben volentieri sì e poi comunque ti permette anche di giocarlo in mazzi mono nero che solitamente non hanno tutte quelle risposte che hanno mazzi con più colori anzi spesso uno tende anche a non giocare certi mazzi monocolore proprio perché dice cavolo magari mi mancano quella risposta in più e in questo caso la risposta c'è e appunto si chiama Feed the Swarm esatto quindi in tutti i mazzi mononeri adesso lo vedremo esatto andiamo avanti questa è Litoform Blight questa è un'aura incantesimo che scende con uno generico ed un nero incanta una terra quando entra in gioco pesca una carta quindi già rimpiazza se stessa e dice la terra incantata perde tutti i tipi e tutte le abilità invece guadagna tappa aggiungi un mana in colore oppure tappa paga un punto vita aggiungi un mana di qualsiasi colore questa è una carta molto particolare perché di primo avviso potrebbe sembrare per fixare il mana il che è molto buono in un mazzo magari che non gioca al verde ma ha due o tre colori mi viene in mente un Esper potrebbe aiutarci molto per esempio Zur de Enchantress giusto che gioca incantesimi e quindi sfrutta la sua abilità e ci fixa il mana la cosa molto molto forte però è che possiamo anche annullare completamente la terra di un avversario beh immagino non so una Cula di Gea o Cabal Coffers o qualsiasi altra carta che crei problemi magari non Urbor perché tanto se giochiamo in nero ci servirà però credo che si giocherà principalmente per questo motivo qui cioè per contrastare quelle che sono delle sinergie che spesso e volentieri sono troppo forti e che dobbiamo contrastare in ogni modo non so comandanti cosa ci potrebbe essere? appunto oltre a Zur sempre seguendo l'esempio degli incantesimi Daxos il risvegliato che può prendere sinergia dal fatto che sia un incantesimo altrimenti anche Alela che è molto buono poi ricordiamoci che possiamo giocarla anche nel momento in cui noi non abbiamo nessuna terra da distruggere e semplicemente ci farà pescare carta una tech molto interessante è giocarla in Villis perché non ci fixerà il mana perché siamo in mono nero però possiamo metterla su una terra e pagare il punto vita ogni volta e pescare una carta beh tanta roba e ok andiamo avanti con Malachy Rebirth un istantaneo a costo 1 anche questa è una terra una MDFC sì è sempre difficile ricordarsi di tutti gli acronimi ultimamente è un istantaneo a costo 1 e dietro è una terra che è intratappata nera cioè che attinge mana nero ci dice scegli una creatura bersaglio perdi due punti vita e fino alla fine del turno quella creatura guadagna quando questa creatura muore fa la ritornare nel campo di battaglia in mano al proprio controllore e cosa molto molto interessante anche perché questo ci permette di proteggere il nostro comandante ad esempio ha tantissime sinergie con Sacrifice poter se c'è una carta particolarmente efficace che triggera quando viene messa quando muore sicuramente è un effetto molto molto utile o se no anche comandanti che ad esempio sfruttano le TB cercare di raddoppiare le TB sì poi mi immagino non so in Archetype Sacrifice questa cosa è anche più facile però non so qualche comandante che quando entra fa qualcosa muore ci rientra di nuovo non è non è da sottovalutare poi per uno non è male assolutamente è una protezione per il nostro comandante o per un pezzo importante che possiamo tenere aperta facilmente perché a costo umana è assolutamente molto utilizzabile mi viene in mente potremmo utilizzarla su comandanti come Gonti che oltre a a tornare in vita ci fa un nuovo un nuovo trigger di entrata possiamo prendere una carta di nuovo dal mazzo dell'avversario in più lui è un ottimo bloccante quindi possiamo scambiarlo tenerlo in difesa dato che ha Detach scambiare con una creatura che ci ha attaccato e farlo tornare quindi veramente molto forte anche in Ayara per esempio a me piace in Ayara il trigger di Ayara ovviamente è far perdere un punto vita e guadagnarne uno noi non è fortissimo però ci permette di salvarla in un momento in cui ce la stanno per distruggere oppure fare un doppio trigger sul sacrificio di una creatura per esempio mi viene in mente gioco con Cuscio pago uno per farci Malakir Rebirth sopra lo sacrifico faccio perdere 5 punti vita tutti guadagno 15 punti vita e lo faccio tornare in campo se lo sacrifico con Ayara ci pesco pure la carta assolutamente bellissimo ok avanti con la prossima carta andiamo avanti siamo ancora nel nero e giochiamo e vediamo Nighthawks Cavanger che costa uno e due neri questo è un vampiro farabutto è una creatura costa costa uno e due neri come abbiamo visto la forza la diciamo dopo perché è complicata allora intanto ha volare tocco letale e legame vitale quindi già vediamo che è come Nighthawk Vampire se non sbaglio il vampiro 2-3 che aveva tutte queste abilità della vecchia della vecchia Zendikar questo ha 3 di costituzione mentre la forza è uno più i tipi di carte all'interno delle carte nei cimiteri degli avversari sembra un'espressione complicatissima però vuol dire che intanto lui sarà sempre un 1-3 quindi sarà comunque sempre un ottimo bloccante perché con Detta ci permette di scambiare sempre ha il legame vitale quindi comunque ci fa riguadagnare vita però prende più uno per ogni tipo di carta quindi se gli avversari hanno giocato una fetch già sarà un 2-3 una stregoneria per rampare più una fetch diventa un 3-3 una creatura è morta prima nella partita quindi diventa subito molto molto forte e è fortissima in mazzi vabbè specialmente Mill che sfruttano la sua abilità per farlo diventare già gigante nei primi turni altrimenti è un ottimo pezzo per tribali vampiri mi viene da dire sì a me piace molto quest'ultima tendenza di Wizards di dare a meno in quest'ultimo set di dare agli archetipi aggro farabutto un modo alternativo per vincere quindi in questo caso sinergizza molto bene anche con Mill abbiamo visto anche in standard è una carta che si gioca molto in quegli archetipi però in generale giusto per ribadire che quest'idea della tematica Mill legata ai farabutti l'ho apprezzata veramente tanto in questo caso è una carta che sinergizza molto anche con Mill perché ovviamente andando ad aumentare le carte nel cimitero degli avversari si potrà potenziare e devo dire c'ha diciamo tutte abilità fortissime flying death touch lifelink cioè non aggiungere gli altri diventa un bel picchiatore esatto allora un'altra carta nera bellissima anche molto particolare che si chiama scourge of the sky cleaves è una creatura demone la forza costituzione sono stellina quindi sono variabili ha kicker con 4 in colore e una nera va giù il costo di mana è di uno in colore e uno nero e dice quando lanci questa magia se è stata chiccata ogni giocatore ogni giocatore perde metà dei propri punti vita arrotondati per eccesso e la sua forza è uguale a 20 meno i punti vita massimi tra i giocatori chi ha punti vita più alti quindi in commander uno direbbe va bene cioè morirebbe subito perché ovviamente anche se tu lo vai a utilizzare subito si muore subito 20-20 ti fa zero e quindi ok però c'è una cosa c'è una cosa interessante allora innanzitutto una cosa stranissima è che è un demone che non può volare che è strano anche nella foto si vede che è palesemente aggrappato a uno sky clip e non so come farà a scendere poverino questa è una delle mie battaglie contro le creature che nell'art sembrano volare tutti si aspettano che volino e non volano come crav per esempio il comandante bellissimo ma tutte le volte ti aspetti che voli e non lo fa no una cosa che mi viene in mente è una combo con wand reflection che ci permette di dire ok perdi un punto di vita perdine altri venti così così magari perdi la partita e invece è una cosa molto interessante la combo con i troi sì questa è molto più complicata da spiegare perché la forza e la costituzione di questa creatura sono continuamente controllate in qualsiasi zona si trovi nitroi ricordiamo permette di rianimare creature quando quando muta permette di rianimare creature dal nostro cimitero sommando la loro forza fino ad arrivare a 10 se noi abbiamo Scourge of the Sky Eclaves nel cimitero e noi siamo mettiamo anche a 30 punti vita lui sarebbe un meno 10 meno 10 questo meno 10 lo sommiamo al numero alla forza che stiamo cercando di rianimare quindi possiamo rianimare creature fino a forza 20 diciamo meno 10 arrivare a 10 che è il limite che ci impone nitroi e quindi ci permette di rianimare il nostro cimitero molto facilmente e pensiamo che per metterlo nel cimitero a noi ci basta giocarlo nei primi turni perché entra a costo 2 sarà un meno 20 meno 20 e muore quindi con nitroi ci permette un turno esplosivo in cui rianimiamo l'intero cimitero ok andiamo avanti sempre con il nero con il nero troviamo una vratta molto molto interessante allora si chiama shadows verdict costa 3 generici e 2 neri è una stregoneria come quasi tutte le vratte e ci dice esilia tutte le creature e i planeswalker con costo 3 o meno dal campo di battaglia e tutte le creature o i planeswalker con costo 3 o meno presenti nei cimiteri quindi è molto molto forte perché ci permette di esiliare ci permette di colpire planeswalker e ci permette di toglierli anche dai cimiteri quindi andrà a fare anche un pezzo di grave graveyard hate quindi di permetterci di ripulire il cimitero contro un mazzi magari aristocrat che giocano pezzi soprattutto piccolini la vedo molto utile in mazzi specialmente magari tribali demoni tribali draghi che usano pezzi molto grossi per cui possiamo giocare questa esiliare tutti i pezzettini piccolini le nostre creature rimarranno intoccate e avere il campo libero no sicuramente una vratte in più fa sempre comodo specialmente per mazzi che appunto tendono a giocare tutte le creature sopra 3 sì che riescono ad aggirarla esatto ok andiamo avanti con soul shatter è un istantaneo a costo 2 in colore e 1 nero e dice ogni avversario sacrifica una creatura o un place walker con il più alto costo di mana convertito tra queste creature e place walker che controllano allora ne avevamo parlato anche un po' anche privatamente di questa carta e devo dire che in alcuni casi potrebbe essere anche più impattante rispetto a crackling doom perché in questo caso noi stiamo controllando il costo di mana convertito e noi stiamo controllando la forza e per un istantaneo di questo tipo secondo me è interessante perché allora innanzitutto crackling doom non dovrebbe rimuovere i place walker più che questo ok forse potrebbe essere anche difficile rimuovere i place walker perché normalmente credo si avrà la tendenza ad avere comunque delle creature con un costo di mana più alto ma non è questo il punto il punto è che è una carta che per questo costo di mana fa tanto secondo me e metterla nei mazzi giusti secondo me neanche in mazzi giusti secondo me può essere veramente messo ovunque se pensiamo è uno splendido removal contiamo che è costo 3 e 2 sono generici quindi già rispetto a crackling doom stiamo risparmando due mana specifici e possiamo giocarla in più mazzi è istantaneo quindi possiamo farla anche in un momento specifico o alla fine del giro di turno prima che tocchi di nuovo a noi quindi sicuramente ottimo e in più ha un'arte stupenda sicuramente questo è un bonus incredibile sì è bella è una bella arte poi io e Egao siamo sempre abbastanza discordanti da un punto di vista della gradevolezza di un'arte però su questo potremmo fare anche un podcast sicuramente questo aspetto moderno a me piace di più sicuramente è una bella carta sia come effetto sia anche visivamente sì comunque se pensiamo farà comunque spesso un 3 per 1 questa è la cosa importante anche se non andiamo a colpire costi molto molto alti comunque fa vantaggio comunque fa un ottimo vantaggio tra l'altro mi veniva in mente mentre parlavi che rispetto rispetto a Crackling Doom questa contro Arcades è molto più forte perché Crackling Doom ti permette di scegliere a te quale carta giocare tra le tue mille carte a forza zero questa invece andrà a colpire la forza quella che hai pagato me ne ricorderò me ne ricorderò andiamo oltre allora abbiamo un altro comandante adesso sempre mono nero nere ne abbiamo fatte un bel po' di carte strano perché comunque Zenny Caruno pensa il verde cose però ci arriveremo allora abbiamo Taborax Hop's Demise costa due generici ed uno nero una creatura leggendaria demone chierico questa copiata è un po' particolare è un 2-2 volare guadagna legame vitale grazie finché ha cinque o più segnalini più non più uno sopra di lui e ha un modo per guadagnarli che è ogni volta che una creatura non pedina che controlliamo muore ci mettiamo un segnalino sopra in più se quella creatura era un chierico possiamo pagare un punto vita perdere un punto vita e pescare una carta allora a me questa creatura anche come comandante mi ispira molto nel senso che in un mazzo aristocrata in cui sacrifichiamo tante creature può essere non dico una chiusura necessariamente ma comunque un pezzo molto forte perché già sacrificando quattro cinque creature lui diventa un 7-7 volare con lifelink che è un ottimo picchiatore mettiamola così potrebbero puntare forse al voltron è molto forte in un tribale chierici per cui ogni volta che sacrifichiamo una di queste creature peschiamo e il connubio perfetto di questi di questi mazzi è i mazzi shadowborn apostol sì in effetti comunque mazzi non li ho mai giocati contro ho sempre voluto vedere come gira il mazzo perché anche per capire che tipo di demoni vai a cercare in questo caso però sì alla fine noi andiamo a sacrificare 6 mi sembra sì sono 6 e comunque lo potenziamo tantissimo quindi magari non lo so che carte si potrebbero tirare fuori con loro allora diciamo che come demoni particolarmente in sinergia con lui come picchiatore potrebbe esserci quello che ci fa wound reflection sostanzialmente il demon di battle bond oppure l'altro sour of discord di sconto mi pare che ci fa scegliere due giocatori ogni volta che uno dei due perde vita perde vita se noi pensiamo di tirar fuori uno di questi due demoni sacrificando i 6 shadowborn apostle metteremo 6 segnalini su tabrax che diventa un 8-8 volante con lifelink possiamo scegliere di pagare fino a 6 punti vita per pescare 6 carte che comunque non è affatto male e possiamo menare di 8 un giocatore quindi fargli perdere altri 8 punti vita a fine turno oppure fargli perdere 8 a un altro chiaro non è una strategia voltron perfetta non è non è neanche così forte magari come altri comandanti per shadowborn apostle che ci permettono di giocare il bianco però secondo me è abbastanza interessante comunque possiamo giocarlo all'interno di shadowborn apostle comunque perché è comunque costo 2 costo 2 più 1 nero quindi costo 3 è un drop che possiamo fare abbastanza presto e lui ci farà comunque sinergia nel momento in cui sacrifichiamo gli shadowborn ok andiamo avanti con un'altra carta dei mazzi planeswalker in questo caso nera pensiamo sul nero dei mazzi non planeswalker dei mazzi commander anzi meglio mazzi commander che planeswalker per fortuna questa carta è un equipaggiamento nero a costo 2 in colore 1 nero si chiama whisper steel dagger è un equipaggiamento che ci dice la creatura equipaggiata prende più 2 più 0 e quando questa creatura fa danno da commettimento a un giocatore puoi lanciare una magia creatura dal cimitero del controllore questo turno e puoi spendere mana di qualsiasi tipo come se fosse di qualsiasi colore con equipaggiare 3 e tra l'altro anche rara no giusto per vedere cioè stavo controllando perché in effetti cioè l'effetto non è poi così esplosivo non lo so mi sembra un po' lentina come carta per fare allora costa 3 più altri 3 per equipaggiarla più altri non so quanti in base a quanto riesce a spendere per castare la creatura dal cimitero penso che ci sono carte più forti sì assolutamente se noi contiamo 3 più 3 siamo già a 6 mana con 7 possiamo giocare Sepulcro al Primordial ricordiamo che è un 5-4 con Intimidate e che quando entra rianima una creatura per ogni cimitero degli avversari quindi con 7 mana rianimiamo 3 creature quindi a livello di costo sicuramente non è buona peccato perché come equipaggiamento a me ispirava anche abbastanza il fatto di dover pagare un costo di equipaggiamento comunque è alto perché 3 è tanto e di dover pagare il costo della creatura per lanciarla purtroppo la rende ingiocabile secondo me no anche secondo me è una carta troppo lenta ci sono carte troppo che fanno la stessa cosa ma meglio meglio esatto oh allora finalmente passiamo al rosso rosso pieno di carte interessanti e andiamo con la prima carta vai allora con cleansing wildfire costa uno generico e uno rosso è una stregoneria ci dice distrugge una terra bersaglio il suo controllore può cercare nel suo mazzo una terra base metterla in gioco tappata e poi rimescolare il mazzo in più peschiamo la carta questa ha sicuramente una duplice una duplice applicazione possiamo già capire che ci distrugge una terra che non ci piace possiamo togliere una Gaius Cradle un Urborg un Cabal Coffer esattamente nello stesso spazio in cui giocavamo l'incantesimo nero anche questa ci fa ripescare un'altra carta e anche questa possiamo giocarla su di noi in varie maniere perché possiamo dire cambiamo una terra facciamo per esempio appunto se abbiamo solo mana rosso e ci serve il mana bianco per castare qualcos'altro possiamo usarla per fare un land drop addizionale in un mazzo che gioca a landfall specialmente se siamo in mono rosso di cui parleremo dopo in cui non abbiamo accesso al verde per fare questo tipo di trucchetti diciamo oppure possiamo utilizzarla in combinazione con alcune terre particolari per esempio Darksteel Citadel che è indistruttibile è indistruttibile quindi la terra rimarrà in gioco però completeremo il resto dell'effetto cioè pescare una carta e cercare una terra base e metterla in gioco oppure Flagstone of Tarkir che ci permette di cercare una pianura quando lei va nel cimitero quindi distruggeremo quella e cercheremo due terre sostanzialmente sì ma a me questa carta piace tantissimo ma non solo in commander anche in altri formati secondo me è una bella carta poi comune cioè è proprio bella cioè la giochi ovunque e comandanti che mi vengono in mente forse Zosu o non so in ottica land destruction ma non lo so sì se ci concentriamo proprio su quell'effetto sì però io la vedo molto buona specialmente di nuovo come abbiamo visto quella con Laura Nera in un mazzo monorosso ha molte applicazioni quindi è uno slot che possiamo permetterci di sfruttare più che perdere proprio perché comunque sia in qualsiasi momento del gioco la troveremo possiamo ciclarla per due nel senso distruggiamo una terra anche una terra di cui non ci importa nulla ripeschiamo una carta e non è mai una carta morta può salvarci la partita nel momento in cui distruggiamo una terra molto particolare o sfruttarla per rampare con quelle sinergie è comunque un'ottima carta in cui in un mazzo monorosso può avere accesso diciamo assolutamente allora andiamo con la prossima è un'altra carta con la terra dietro che ovviamente mi scordo sempre gli acronimi MDFC perché se dobbiamo dirle complete nel nome ci mettiamo una vita allora la carta si chiama Cuzzles Fury è un istantaneo a costo 2 generico e 1 rosso e dice come costo addizionale per lanciare questa magia sacrifica una creatura Cuzzles Fury fa danno pari alla forza della creatura sacrificata a qualsiasi bersaglio allora secondo me è una carta mi viene in mente subito Fling perché comunque è una carta pressoché identica in questo caso però ricordiamo che nonostante Fling costi 1 in meno abbiamo una terra dietro che l'abbiamo detto fino all'estremo ma avere una terra dietro è un vantaggio da non poco insomma è proprio una cosa che dobbiamo sempre considerare anche in commander quando avere sempre un land drop è utile è molto importante quando siamo magari non so in mana screw non riusciamo ad aver terra è utilissimo ma non solo in commander è interessante perché ad esempio lo possiamo giocare non so è risposta a una rimozione uno dice ok ti distruggo questa e ti dice no ok io prima te la sacrifico e ti faccio i danni quindi può essere utile non so comandanti che possono sfruttare questa cosa Prosh ad esempio Prosh contando che può avere una forza molto molto alta in un turno solo se noi giochiamo Prosh sacrifichiamo tutti i suoi koboldi magari abbiamo giù anche il dio incantesimo rosso verde Xenagos che gli raddoppia la forza attacchiamo un giocatore lo uccidiamo di danni di commander e poi già che ci siamo lo lanciamo contro un altro giocatore sicuramente può essere un'ottima mossa anche il fatto che sia sacrificio sacrificarlo appunto può essere buona sia in Prosh che abbiamo già degli altri trigger magari o Korvold o altri mazzi che sfruttano l'archetipo del sacrificio altrimenti Brian Stoutarm è un comandante che gioca proprio sulla tematica del finger quindi più di redundancy esattamente può in quel caso possiamo già pensare di sostituirla a una terra e usarlo in quel caso al contrario se ci serve proprio quell'effetto sfruttarla altrimenti anche comandanti come Yasova Dragon Claw che ci permette di rubare un pezzo a turno se noi rubiamo un pezzo lo usiamo per attaccare tutto quello che ci serve poi lo possiamo lanciare contro qualcun'altro abbiamo fatto anche una rimozione all'avversario ok andiamo avanti con forse la mia carta preferita del set in assoluto che è l'Ailing Tyrant è un drago 4-4 con volare a costo 2 in colore e 2 verdi e ci dice che non perdiamo il mana rosso non speso nelle fasi finali quindi ci fa un po' da Omnath da Omnath Grull da Omnath verde sì da Omnath verde però per il rosso altrimenti Xenagos è Crufix Crufix esattamente però penso sia la prima volta che lo vediamo su una creatura rossa e in più cosa ci dice che quando muore possiamo pagare un qualsiasi ammontare di di mana rosso quando lo fate facciamo tanti danni quanto abbiamo speso a un qualsiasi bersaglio veramente è una carta splendida secondo me sto cercando in tutti i modi anche di giocarla in standard perché secondo me è una carta bellissima e la prima carta che mi viene in mente in sinergia pazzesca secondo me è Braid of Fire che con cumulative upkeep ci permette di aggiungere mana rosso che non verrà esaurito quindi inizieremo a fare un sacco di mana e è bello perché in un in un'ottica mono red possiamo avere un motore che ci permette di rampare cosa che nel rosso normalmente è molto difficile poi vedremo ci sono anche altre carte che non fanno la stessa cosa ma che ci aiutano in generale e secondo me un comandante super interessante è Nihib che in base cioè che dopo il combattimento ci aggiungerà un sacco di mana che non che non spenderemo e che non verrà esaurito possiamo portarcelo per il turno seguente e fare effetti sempre più devastanti Nihib tra l'altro si gioca magari spesso con degli effetti tipo il Roiling Earthquake o Earthquake normali che fanno danni magari a tutti i giocatori quindi più mana abbiamo messo da parte più danno facciamo poi quel danno ci torna a trasformarsi in mana quindi sicuramente molto molto forte andiamo avanti con Magmatic Channeler questo è un mago umano che costa un mana generico ed un mana rosso è un 1-3 dice che se abbiamo 4 o più istantanei e o stregonerie nel nostro cimitero prende più 3 più 1 quindi diventa un 4-4 e l'abilità più interessante per comando è probabilmente il fatto di tappare scartare una carta ci permette di esiliare le prime due carte del nostro mazzo sceglierne una e fino a fine turno possiamo giocare quella carta giocare vuol dire che se è una terra possiamo metterla in campo se è il nostro turno e altrimenti dobbiamo comunque pagarne il mana il costo di mana è carino non è così performante secondo me in commander può essere interessante perché comunque magari specialmente nel mono rosso ci permette di far vantaggio carte scartando magari o una terra che non ci serve oppure perché no un pezzo che poi noi vogliamo rianimare e guardare due carte sceglierne una e giocarla in questo turno secondo me può darci un po' di vantaggio magari appunto nei mazzi che sfruttano il discard può essere più utile però non mi sembra così forse magari in altri formati è una carta abbastanza veloce anche in generale nel rosso avere la possibilità di esiliare giocare è una cosa che si usa in questo caso ne esiliamo due quindi comunque non è male come cosa però forse potrebbe splendere in formati diversi da commander secondo me però è comunque una carta che fa vantaggio carte quindi sicuramente può essere esatto è stato giusto citarla andiamo con un'altra super carta secondo me che è Moraug Fury of Akum è una creatura leggendaria Minotauro Guerriero 6-6 costo 4 in colore e 2 rossa e dice ogni creatura che controlli prende più uno più zero per ogni volta che ha attaccato questo turno ma la cosa secondo me più assurda è che con Landfall ci permetterà di avere una fase di combattimento addizionale dopo questa fase se siamo nella main phase wow questa credo sia la mia preferita del set è splendida è così elegante gioco una terra ti attacco due volte meravigliosa bisogna stare attenti ricordiamoci che questo trigger è un po' particolare perché funziona solo se siamo nella nostra fase principale quindi non possiamo fare trick interessanti tipo spada dell'animista attacco cerco una terra la metto in gioco faccio un'altra combat e dobbiamo anche ricordare questa cosa un po' particolare che molte persone al pre-release o sui primi eventi su arena si perdeva che il trigger entra in fila ci fa una nuova combat addizionale dopo la fase in cui siamo quindi se siamo nella prima main phase avremo prima la fase addizionale la sua abilità ci fa stappare le creature nella fase addizionale quindi se noi facciamo terra nella prima fase nella prima fase principale avremo prima la fase la fase di combat addizionale in cui stappiamo le nostre creature però sono già stappate attacchiamo andiamo nella fase principale reale ma non stappiamo quindi ricordatevi di attaccare prima e fare land drop nella seconda fase sostanzialmente detto questo meravigliosa meravigliosa secondo me è un bellissimo comandante mono red anche perché non avendo il verde lo rende abbastanza bilanciato tutto sommato cioè è un'abilità che è fortissima però senza senza avere il verde che ci permette di fare 3-4 land drop a turno senza problemi chiaramente potremmo giocare le fetch land potremmo giocare le carte anche le fetch land non vere tipo semplicemente evolving wild teramorphic expansion esattamente questo tipo di carte anche nel mono red connotate sempre dal classico crucible of words per rigiocarceli tutti i turni però non avremo quei ramp classici tipo explosive vegetation tutte quelle cose lì bellissimo poi invece dove abbiamo il verde con omnat omnat arrabbiato che ci permette di fare effettivamente un sacco di elementali e attaccare 2-3 volte a turno però secondo me la prossima carta ci viene un po' in aiuto assolutamente perché appunto stiamo parlando proprio di non riuscire a fare troppi land drop addizionali ma in questo caso la prossima carta che è nahiri's little farming è una sorcery a costo x e 2 rossi che ci dice sacrifica x terre per ogni terra sacrificata in questo modo pesca una carta puoi giocare x terre addizionali questo turno e le terre che entrano nel campo di battaglia questo turno entrano tappate che ovviamente con quella con la carta che abbiamo detto prima che era morog è fortissima se ci pensiamo bene soprattutto anche perché se giochiamo monorosso non abbiamo carte come scapeshift che potrebbero aiutare ma in questo caso forse quasi più forte allora diciamo che più forte di scapeshift la vedo dura la cosa che mi dà proprio fastidio rispetto a scapeshift è che in questo caso dobbiamo pagare x per ogni cioè un mana per ogni terra che vogliamo sacrificare mentre scapeshift costa quello e poi possiamo decidere esattamente se noi poniamo il caso di avere 10 terre con l'iris litoforming dobbiamo pagare 2 mana più 8 e sacrificare 8 terre pescare 8 carte e poi sperare di beccare terre possiamo aggirare questo fatto avendo crogiolo dei mondi in gioco per cui rigiocare le stesse e in quel caso ok abbiamo pescato 8 carte anche però abbiamo speso 10 mana per pescare 8 carte e fare 8 land drop con scapeshift se noi pensiamo paghiamo 4 sempre ponendo di avere 10 terre in gioco 6 mana li possiamo utilizzare per qualcosa prima o dopo possiamo anche fare attingere il mana prima e sacrificare tutte 10 le terre quindi non perdiamo neanche quelle 2 che ci servono per il costo della magia e rigiocare 10 terre e scegliercene perché scapeshift ci permette di cercare il mazzo e scegliere quello che vogliamo quello è un gran vantaggio ovviamente però stiamo comparando due carte che sono una carta verde fatta apposta per cercarsi terre questa è una carta che sfruttiamo appunto specialmente in questo tipo di mazzi che sono un mono rosso direi sì non so altri mazzi che mi vengono in mente potrebbero essere corvold che comunque cioè se stiamo sacrificando comunque corvold è una carta anche un comandante che arriva ad avere comunque una forza esplosiva quindi e pescheremo il doppio di carte esattamente in quel caso ce lo vedo abbastanza bene non so in wing grace che comunque è un mazzo che sfrutta molto le terre vero è stavo pensando che non so te le puoi far ritornare in mano quelle che hai sacrificato però non so se è una carta così sinergica con la strategia di wing grace io personalmente in wing grace non la giocherò e non la giocherei nel senso che avendo già una scapeshift preferisco di gran lunga quel tipo di effetto che è più più efficace certo andiamo avanti dai allora il prossimo relic robber questa è un goblin farabutto costo 2 è un 1 rosso è un 2-2 è rapido e ci dice che quando infligge danno ad un giocatore quel giocatore crea una pedina in colore goblin che è uno 0-1 che dice costrutto che non può bloccare e dice all'inizio del mantenimento perdi un punto vita quindi sostanzialmente mettiamo agli avversari a cui facciamo danno un piccolo un piccolo tesoro che si deve tenere lì e tutti i turni gli farà danno non è fortissima questa carta lo metto già da subito però io volevo metterla perché mi piace tantissimo come meccanica a livello di gioco in commander sicuramente può fare sinergia con carta che gli danno doppio attacco per cui farà il trigger due volte quando colpisce un giocatore oppure in quel tipo di mazzi che sono un po' group slug o un po' o un po' specifici magari tipo grenzomi che farà utilizzerà la meccanica di god quindi di far attaccare le creature degli avversari quindi permette normalmente di avere una strada più libera per questa creatura per attaccare un giocatore fare danno e aumentare i danni specialmente poi contando che gli avversari continueranno diciamo ad attaccare tra di loro diciamo che altrimenti un altro comandante che mi viene in mente è Xancha che anche quella gioca sul dare Xancha a un altro giocatore farla attaccare diciamo è un mazzo sono mazzi un po' particolari interessanti sicuramente non fortissima questa carta però mi piaceva come concetto ok andiamo avanti con Rolling Vortex che anche qui si può definire anche questa una carta da poter giocare in archetipi group slug allora Rolling Vortex è un incantesimo a costo un incolore e uno rosso che ci dice all'inizio del mantenimento di ogni giocatore Rolling Vortex fa un danno a quel giocatore ogni qualvolta un giocatore lancia una magia se non è stato speso mana per castarla Rolling Vortex invece infligge 5 danni a quel giocatore inoltre pagando un rosso tutti gli avversari non potranno guadagnare punti vita in questo turno molto interessante allora un punto vita non è tantissimo però secondo me in mazzi ad esempio come Thorbrand che ci permettono di aumentare i danni potrebbe veder gioco special io sto pensando anche non so anche a farsi un mazzo Thorbrand group slug che ha tanta roba che fa così secondo me può dir la sua come incantesimo peccato questa cosa del non so di dover pagare un rosso per evitare di far prendere guadagnare punti vita agli avversari perché comunque ci sono altre carte che fanno la stessa cosa certo sarebbe stato forse anche un po' troppo forte a costo 2 però anche perché è un incantesimo quindi è anche generalmente un po' più difficile da rimuovere sì è sicuramente un lato negativo il fatto di dover pagare quel mana rosso è vero anche che se siamo contro dei mazzi che hanno bisogno che sfruttano per la loro strategia al guadagnare punti vita un mana rosso non è tantissimo se pensiamo di doverlo fare magari una volta a turno se iniziamo a pensare di doverlo farlo nel nostro turno in quello dei nostri avversari vuol dire 4 mana a turno iniziano ad essere tanti però seconda della situazione quindi spesso vediamo com'è la situazione in gioco quali sono i nostri avversari e possiamo decidere di tenerci o meno quella opzione andiamo avanti questa è Song Mad Treachery è un'altra MDFC quindi è una terra sul retro che dà un mana rosso sul fronte è una stregoneria che costa 3 generici e 2 mana rossi ci dice semplicemente prendi controllo di una creatura a bersaglio a fine turno la stappi gli dai rapidità e poi la restituisci a fine turno è un act of treason dietro a una terra è forte solo per questa quindi nei mazzi in mono rossi sicuramente è molto forte di nuovo Brian Southarm potrebbe giocarla in aggiunta proprio per dire rubo una creatura e poi la lancio altrimenti la giochiamo come terra non è non è una carta specifica secondo me però i mazzi comunque che giocano tante terre rosse possono permettersi una tupland è molto forte perché in commander ricordiamoci ci sono spesso grosse creature molto forti in gioco per cui anche solo per un turno se posso rubare un blight stall of colossus del mio compagno menare e posso già uccidere una persona diciamo che è per quello che la nominiamo andiamo avanti su questa carta invece che è molto molto interessante Valakut Exploration è un incantesimo a costo 2 ed un rosso questa carta ha landfall nuovamente quindi sicuramente in tutti i mazzi landfall potremmo giocarla e ci dice quando una terra entra in gioco sotto il nostro controllo esiliamo la prima carta del nostro mazzo fino alla fine fino a che è esiliata potremmo esiliare potremmo giocare quella carta quindi se è una terra potremmo giocarla di nuovo se alla fine del nostro turno quando andiamo nel passo finale ci sono carte esiliate con Valakut Exploration le mettiamo nel cimitero e facciamo un danno per ogni carta messa nel cimitero in questo modo a ogni avversario a ogni avversario fortissimo mi ha stupito un attimo questa cosa che la facesse a tutti perché la sto giocando in standard in questo momento però sì è molto molto forte ci fa vantaggio carte ci fa un po' quello che farebbe Outpost Siege di Tarkir quindi una carta turno diciamo possiamo considerare di averla sempre se noi giochiamo terra tutti i turni se quella carta non ci serve fino a fine turno non la giochiamo il fatto di metterla nel cimitero è molto forte perché in rosso magari se siamo magari sul Rakdos giocheremo Rianimator è più facile avere sinergia anche dal cimitero e comunque sia in qualsiasi momento una carta nel cimitero è meglio che in esilio assolutamente in più se pensiamo di fare multiple land drop possiamo anche contare sul danno un danno più consistente effettivamente sicuramente mazzi come Thorbrand in cui faccio più danno quindi facciamo tre danni magari per ogni carta esiliata diventa forte o Obosh per esempio Obosh che raddoppia i danni essendo una carta dispari beh sicuramente carta fortissima non quanto questa che stiamo per dire no vabbè anche questa sembra interessante ma sicuramente non forte come quell'altra è un'altra carta dei precon dei mazzi commander è Geod Regger è una creatura elementale 4-3 a costo 4 generici e due rosse a attacco improvviso e con l'endfall ci dice che ogni no come si si sprona si dice in italiano sprona le creature degli avversari di un avversario si queste queste creature attaccano ogni turno se possono e se possono non attaccano esatto se possono non attaccano noi poi ovviamente questo in ottica uno contro uno non funziona ovviamente funziona per cui comunque li costruggiamo ad attaccare diciamo che è comunque un vantaggio perché per esempio il classico mana dork o il classica creatura che deve fare value è costretta ad attaccare però attaccherà noi perché non ci saranno altri avversari da attaccare non lo so anche questa magari in ottica group slug può essere interessante sì in questo caso di nuovo torna torna un po' quello che era il problema dei mazzi planeswalker che prima nei mazzi planeswalker il problema è che i planeswalker stessi costavano tanto e avevano degli effetti medi in questo caso i comandanti dei mazzi sono stati abbastanza carini però le carte che hanno aggiunto hanno dei costi un po' troppo alti magari per quello che fanno è carino chiaramente se riusciamo a fare terra tutti i turni avere fare disrupt decorum diciamo per ogni giocatore non è male però non è una carta che ci entusiasma così tanto passiamo ora invece al verde già questo colore ci esalta perché ha ricevuto un sacco di belle aggiunte come era ovvio per un'espansione di zendikar e quasi tutte giocheranno nello spazio landfall quindi ripeteremo tutti gli stessi comandanti a non finire iniziamo con la prima bomba che è una bella mitica è un elementale 5-7 con raggiungere a costo 4 e 2 verdi quindi un costo molto impegnativo però per un mazzo verde che magari rampa con due effetti molto importanti ci dice possiamo giocare terra dal cimitero quindi ci fa crucible of worlds direttamente e se una terra entra in gioco sotto il nostro controllo fa triggerare un'abilità di un permanente che controlliamo triggeriamo due volte questo vuol dire un panarmonico sostanzialmente per le terre bellissimo molto molto forte sì questa cosa di avere praticamente due tra gli artefatti più forti in commander condensati in un'unica creatura sicuramente interessante non so sto pensando a mazzi ovviamente mi viene in mente Iarok se tanto parliamo di landfall non so Titania in Titania può essere una carta in più che ti permette di tirar su terra dal cimitero molto molto forte e non so Tatiova e Gitrog ma semplicemente perché sfruttano le terre non so in Wingress anche qui come può essere gestita la situazione perché comunque già Wingress con la seconda abilità può tirar su terre esatto nuovamente da giocatore di Wingress non sono così portato a dire faccio spazio per questa carta nel mazzo come dici tu già Wingress mi permette di giocare terre dal cimitero e questo è un drop a 6 che comunque è abbastanza importante quando in Wingress normalmente appunto posso farlo con il mio comandante posso farlo con Crucible e con e con il Naga di di Amonkett esattamente e quindi non andrei a sfruttarlo lì specialmente perché in Wingress con tre colori magari gioco meno io personalmente meno carte che hanno Landfall per cui l'effetto di raddoppiarle mi risulta così potente la vedo molto di più magari in mezzi Landfall che sfruttano più terre base magari vedremo poi un nuovo comandante che è uscito o comunque comandanti magari che giocano sul bianco verde il bianco spesso non ha tanti comandanti non ha tanti modi per rigiocare le terre dal cimitero chiaramente bianco e verde però sfruttano di più il Landfall stesso quindi fare il doppio trigger diventa più forte secondo me ok andiamo avanti con Ashaya Soul of the Wild anche questa carta incredibile anche per il suo effetto anche questo è un elementale una creatura leggendaria con forze e costituzione variabili adesso diremo come a costo 3 e 2 verdi allora Ashaya la forza e la costituzione sono pari al numero di terre che controlliamo ma non è tutto perché ci dice che le creature non pedina che controlliamo sono una sono terre foresta in aggiunta ai loro altri tipi e cavolo c'è anche questa molto interessante e poi credo che in questo caso le creature entrano come terra e anche questa è una cosa da considerare questa forte nei mazzi landfall vuol dire sicuramente che tutte le creature che giochiamo compresa lei entrano come terre quindi faranno tutti i trigger delle terre molto molto forte inoltre oltre ad essere un'abilità particolare sicuramente è anche molto forte perché ci permette almeno un paio di combo perché se noi giochiamo Magus of the Candelabra per esempio che ci dice paga X e tappa lui per stappare X terre possiamo stappare lui stesso essendo adesso una terra la stessa cosa che succede con Layweaver una carta con partner di Battlebound che ci permette di stappare due terre se noi una delle terre scegliamo il Layweaver la stappiamo questo ci permette di avere mano a infinito con mano a infinito abbiamo infinite possibilità di vincere possiamo scegliere poi una chiusura quindi come comandante è molto molto forte perché ci permette queste strategie combo in mazzi landfall anche lì è molto interessante al di là di quello comunque è una carta che a me piace molto perché è proprio molto particolare diciamo ha espresso la tematica terre di Zendikar in una maniera che finora non si era vista diciamo trasformare le creature in terre molto bella secondo me a parte non so mi viene in mente Dread Harbor ma comunque sono casi molto a parte cioè è stata comunque originale la scelta da parte di Wizards per questa carta qui ok andiamo avanti e andiamo avanti con Balagued Recovery la prima delle MDFC che troviamo nel verde e è una stregoneria costo due generici e uno verde e fa tornare una carta dal nostro cimitero in mano questa carta è molto forte perché dietro è una terra ovviamente e può andare a sostituire anche quella che è Eternal Witness che si gioca quasi sempre nei mazzi verdi per questa funzione sì io immagino anche non so mazzi particolari che hanno bisogno di certe carte per sfruttare delle combo mi viene in mente anche la carta che abbiamo detto prima che era Shaya e in questo caso magari avevamo citato non so Layweaver potremmo riprendercela con questa carta quindi sicuramente una carta da tenere d'occhio andiamo avanti con un'altra carta verde Calni Ambush un instant sempre un MDFC un istantaneo a costo 2 generico 1 verde e dice che una creatura a bersaglio che controlliamo combatte con una creatura che non controlliamo diciamo che il verde per quanto riguarda le removal c'è sempre bisogno è una removal abbastanza buona ha una terra dietro che la rende comunque una carta buona non so magari immagino dei comandanti che sfruttano il combattimento magari mi viene in mente Nate of the Dire Hunt che fa pescare quando una creatura combatte quindi non so magari se abbiamo anche creature con death touch ad esempio eccetera o anche con attacco improvviso che possono attacco improvviso non mi fa niente ah giusto è vero no sicuramente esatto quindi death touch può essere un ottimo un ottimo motivo per usarla per esempio mi viene da pensare ai serpenti con death touch di apatra che possiamo lanciarli con calni e ambush per fare danno e uccidere una creatura se abbiamo un token non ci importa però i comandanti che fanno sinergia con la proprio la meccanica lottare sicuramente sono un ottimo esempio per usare questa carta andiamo avanti con una ottima ristampa questa chiaramente l'avrete vista quasi tutti è l'otus cobra questa è una carta che c'era già da zandicar originale è un serpente 2-1 con landfall costa 1-1 verde e quando entra una terra in gioco ci fa un mana di qualsiasi colore questa è una carta da non sottavolutare io all'inizio specialmente chiaramente anche data la mia inesperienza con commander e in generale con magic pensavo fosse una carta piuttosto inutile mi viene da dire perché devo pagare 2 mana per una creatura che non sempre mi farà del mana perché se arrivo a un turno in cui non ho la terra non mi produce niente quando dovrei pagare un mana per avere un elfo di lanuar o un uccelli del paradiso che mi dà mana di qualsiasi colore a costo 1 la risposta in realtà è che in mazzi in cui giochiamo le fetch giochiamo altre forme di ramp con le terre come rampant growth explosive vegetation o tutte le variabili del caso e può dare molto 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 più mana questo senza contare poi i turni esplosivi che si possono fare con la classica scapeshift o anche il genesis ultimatum che si usa adesso in standard beh sì è vero è vero quindi sicuramente un'ottima carta ristampata adesso rara tra l'altro era stata mitica all'inizio quindi ci piace questa non aggiunta ma sicuramente rincontro piacevole ristampa esattamente andiamo avanti con oran reef ooze è un ooze una melma a costo 2 e 1 verde 2 e 2 quando entra nel campo di battaglia mette un segnalino più 1 più 1 su una creatura che controlli quando quando questa creatura attacca quando oran reef ooze attacca mette un segnalino più 1 più 1 su ogni creatura attaccante con un segnalino su di essa un segnalino più 1 più 1 beh non male specialmente in comandanti che sfruttano i segnalini questo è ovvio non so le ooze prima o poi arriverà un tribal chissà c'è già nell'aria esatto però comunque si in ottica segnalini assolutamente da tenere sotto occhio molto buona perché mette il segnalino lei stessa e poi potenzia tutto il board quando attacca quindi ci sta anche secondo me andiamo avanti con roiling regrowth anche questa sembra una ristampa un istantaneo costo 2 e un verde ci dice sacrifica una terra e cerca il tuo mazzo per 2 terre base mettile in gioco tappate e poi rimescola il grimorio e sembra un ristampa funzionale di harrow però con 2 importanti differenze allora la prima è che questa le mette tappate quindi magari non riusciamo a sfruttare quei 2 mana extra che potrebbe farci harrow ottima perché comunque ci fa 2 landfall e possiamo farla comunque in istantaneo quindi magari cose come calamax ce la raddoppiano però qui c'è la seconda differenza harrow o erpice in italiano ci fa sacrificare la terra come costo addizionale quindi se poi la copiamo con calamax per esempio non dobbiamo più pagare questo costo semplicemente cerchiamo 4 terre invece roiling regrowth ci fa sacrificare la terra in risoluzione della magia questo diventa uno svantaggio se copiamo la magia perché dobbiamo sacrificare 2 terre per cercarne 4 però in un meta magari in cui ci aspettiamo anche dei counter è più forte perché finché non risolviamo questa magia noi non sacrifichiamo la terra quindi se quello che potrebbe succedere con harrow è sacrifica una terra l'avversario ci fa counterspell noi abbiamo una terra esatto e non cerchiamo niente invece in questo caso siamo un pochino più assicurati diciamo ok andiamo avanti anche questa è un'altra carta molto molto bella secondo me è scute swarm questo si gioca un pochino su quelli che erano scute mob del vecchio zendikar costa 2 1 verde è una creatura insetto 1 1 cosa fa? con landfall creerà una pedina 1 1 insetto verde se però abbiamo 6 o più terre quando compresa la terra che abbiamo messo in gioco in quel momento anziché un 1 1 farà una pedina che è una copia di scute swarm quindi se noi facciamo abbiamo 5 terre giochiamo la sesta creiamo una copia al turno dopo giochiamo un'altra terra entrambe le coppie entrambe le creature cioè quella vera e la copia triggereranno quindi avremo 4 pedine e così via in maniera esponenziale molto molto bella l'unica pecca magari è che non funziona con scapeshift come potremmo sperare perché sacrificando 10 terre entreranno tutte assieme e faranno 10 trigger per cui creeremo 10 copie di scute swarm e basta questo è il momento in cui magari litoform litoforming di Nairi diventa più forte perché ci permette di fare il land drop 1 a 1 quindi superato il 6 iniziamo a fare una copia poi un'altra per ogni copia che abbiamo già in campo però a parte quello è una carta che è spettacolare secondo me sì nei mazzi landfall può dire veramente tanto la sua sì poi piccola diciamo digressione mi ricordo che questa carta ha causato non pochi problemi ad arena visto che il gioco si impallava letteralmente in cui vedevi non so più di 600.000 scute swarm e non riuscivi neanche a chiudere la parte la cosa bellissima che succede adesso in standard probabilmente anche per quello impacca le partite ma che si può rifare comunque in commander è mutare su questa creatura questa è una cosa meravigliosa perché poi copia le creature mutate ok andiamo avanti con Tangle Fluorahedron che è sempre un MDFC a costo un generico uno verde è una creatura elementale uno uno che ci aggiunge mana verde una rampa a turno 2 è sempre buono e che dire mana d'orque servono sempre questa è pure una terra quindi se non abbiamo terra io direi anche questo secondo me è semplicissimo nel design o è una terra o un rampa a 2 è proprio staples nei mazzi verdi secondo me siamo arrivati adesso alle multicolor alle gold e in particolare vedremo un po' visto che la maggior parte sono creature leggendarie come possono essere integrate come comandanti e partirei subito da Akiri Fearless Voyager questa è una buonissima aggiunta per il colore boros costa 1 un rosso e un verde è una creatura leggendaria guerriero core è un 3-3 e dice che quando attacchiamo un giocatore con una o più creature equipaggiate peschiamo una carta quindi per ogni giocatore possiamo pescare una carta ma non per ogni creatura e in più ha un'abilità attivata molto molto carina che dice per un bianco possiamo staccare disequipaggiare un equipaggiamento da una creatura che controlliamo se lo facciamo tappiamo la creatura e gli diamo indistruttibile fino alla fine del turno quindi per la classica per la classica strategia Voltron è molto molto buona perché ci permette un motore di pescaggio quindi ogni volta che attacchiamo un giocatore peschiamo e una protezione non indifferente direi sì anche perché proprio in ottica equipaggiamenti noi cerchiamo di dargli di renderlo elusivo di potenziarlo nella forza per fare più danno e devo dire che questo effetto aiuta a proteggere pezzo specialmente appunto in questo caso in cui magari basi il mazzo su un'unica strategia e senza il comandante puoi fare ben poco quindi comunque è un'abilità molto utile ed evasiva andiamo avanti con un idro una creatura idro orrore si chiama Grachmow Skycliff Ravager è una creatura leggendaria a costo uno generico uno nero uno verde è uno 0-0 come solitamente quasi tutte le idre e ci dice che quando entra nel campo di battaglia entra con tre segnalini più uno più uno ogni qualvolta una creatura che controlli muore se ha un segnino più uno più uno mettiamo un segnino più uno più uno su di essa e quando Grachmow muore creiamo una pedina XX nera e verde dove X è il numero di segnini più uno più uno che abbiamo messo su Grachmow allora anche questo ritornano la meccanica dei segnalini molto interessante magari non tribale idra può essere bello assolutamente visto che tanto di segnalini ne utilizziamo a bizzeffe mi immagino carte magari come l'Ozolite che ci permette di recuperare o quantomeno i segnalini non so se può funzionare in ottica Voltron ma un po' più difficile forse non la trovo neanche troppo elusiva come carta e non so però anche esempio carte come Doubling Season che ci permettono di aumentare di raddoppiare i segnalini che mettiamo sicuramente sono molto importanti sì Doubling Season se pensiamo ci raddoppia i segnalini e anche poi la pedina che crea Grachmow è interessante ci sono un paio di commander che mi vengono in mente chiaramente Gave è il guru of sports che va in combo in milioni di modi può apprezzarlo perché è una creatura con segnalini più uno più uno e perché poi magari guadagna segnalini più uno più uno per le creature che sacrifichiamo servono dei segnalini sopra quindi ci permette magari di aumentare i segnalini per trasformare un motore di sacrificio in infinito altrimenti a me piace molto anche in nitroi abbiamo parlato prima per rianimare il cimitero in questo caso possiamo costruire proprio il mazzo sfruttando la sinergia dei creature che sono zero zero entrano con segnalini più uno più uno per di nuovo rianimare il cimitero completamente in un'unica volta perché se sommiamo zero più zero più zero saremo sempre sotto il dieci se la strategia che abbiamo pensato per quel mazzo è i segnalini più uno è molto carino se ci pensiamo poi mutare funziona molto bene con le creature con i segnalini più uno più uno perché se noi decidiamo di tenere la creatura commutare in cima prenderemo quella forza e costituzione ma i segnalini poi si aggiungeranno sopra quindi sicuramente può fare una buona sinergia ok andiamo avanti con casa roll chaser casa roll chaser allora in questo caso è un mago umano è una creatura leggendaria sempre costa un blu ed uno rosso è un 1-2 con volare e rapidità è un'abilità attivata che dice tappa la prossima istantanea la magia istantanea o stregoneria che lanci in questo turno costerà x in meno per essere lanciata dove x è il numero di maghi che controlliamo quando risolve questa abilità e questa è un mago particolare nel senso che sfrutta di nuovo la sinergia tribale dei maghi quello che a me lascia sempre un po' confuso o comunque non convinto del tutto è che tra tutte le tribù che pensiamo quelle dei maghi hanno una forte connotazione nell'utilizzare anche istantanee e stregonerie io lo vedo un po' come un problema nel senso che quando noi andiamo a creare un mazzo con questo mago come comandante nel nostro mazzo vorremmo avere dei maghi per poter contare delle magie ma anche tante magie che costano tanto per sfruttare la sua abilità quindi mi sembra sempre che sia un po' troppo divisa come tribù no si è vero se pensiamo non so ad elfi che di solitamente è una tribù tribal molto più esplosivo forse anche proprio il concetto del fatto che tu le creature non le sfrutti a pieno e ti concentri anche sulle sorcery istant un commander che mi viene in mente subito è ovviamente in alla per i wizards ovviamente non si gioca sempre tribal in alla perché spesso si gioca anche combo si cerca di sfruttare non so turn infiniti eccetera quindi però ce lo posso vedere bene anche qui ricordiamo anche che ha rapidità quindi questa cosa gli permette di attivare subito l'abilità senza dover aspettare un turno andiamo avanti con l'invala shield of seagate è un angelo mago a costo uno generico uno bianco uno blu 3-3 con volare all'inizio all'inizio del combattimento del tuo turno se hai un party completo scegli una creatura non te sia un permanente non terra che ha contato un avversario fino al prossimo turno non può attaccare a bloccare e le sue abilità non possono essere attivate in più lo possiamo sacrificare e possiamo uscire tra antimalocchio o indistruttibile e le creature che controlli guadagnano antimalocchio o indistruttibile allora l'avevamo detto anche nello scorso video party non è una meccanica particolarmente performante in commander non mi sembra non so ci sono archetipi migliori secondo me però la seconda abilità è molto interessante perché ci permette di proteggere creature ecco forse magari Xproof ci servirà quasi sempre per proteggere pezzo singolo perché ovviamente se abbiamo rimozioni di massa non funziona quindi immagino però che si utilizzi principalmente per non so mazzi che hanno tante creature ad esempio che devono essere protette allora dare indistruttibile in quel caso diventa molto forte sì a me piace molto questa carta pensando in un'ottica di piccolo mazzo che sfrutta piccoli pezzi volanti per esempio mi viene in mente il nuovo ignaz che è uscito in jumpstart che sfrutta questa tematica di avere una board abbastanza ampia con creaturine che volano e anche mi viene in mente il selfless spirit che fa più o meno la stessa cosa cioè un volante piccolino che può attaccare in aria ma all'occorrenza ci protegge un board molto esteso adesso arriviamo alla grossa bomba del set allora parliamo di omnat locus of creation finalmente omnat ha raggiunto il quarto colore quindi costa un rosso un verde un bianco ed un blu è una creatura leggendaria elementale in questo caso parliamo di un 4-4 quando entra in gioco ci fa pescare una carta perché no e ha un'abilità con landfall come tutti gli omnat che si rispettino però è molto particolare perché ha dei risvolti differenti a seconda di quante terre abbiamo fatto entrare nel gioco in questo turno quindi se è la prima terra che entra in gioco quindi se è la prima volta che si risolve questa abilità ci fa guadagnare 4 vite se è la seconda volta che si risolve questa abilità guadagniamo un mana rosso uno verde uno bianco ed uno blu quindi ci fa 4 mana se è la terza volta che si risolve questa abilità fa 4 danni ad ogni avversario e a tutti i place walker che controllano ottima questa cosa è una creatura strana perché a vederla di primo acchito non sembra fortissima nel senso che il vantaggio che ci crea principalmente alla fine è quello del mana perché la vita ok in commander non è la cosa che ci importa così tanto e fare 4 danni agli avversari è comunque molto difficile da raggiungere se pensiamo che dobbiamo fare 3 terre in un turno però non è da sottovalutare l'abbiamo visto giocare un po' e è molto molto più forte di quanto ci si può aspettare l'abbiamo visto anche in standard in cui è stato bannato quindi già quello è un ottimo segnale che ci può indicare di quanto effettivamente sia forte questa carta però chiaramente se noi pensiamo anche a il classico non rampant growth explosive vegetation che ci costa 4 mana per cercare 2 terre ecco che cerchiamo 2 terre e già entrando trigger non ci fanno guadagnare le 4 vite e 4 mana specifici che abbiamo già indietro quindi stiamo non solo aumentando le terre che avremo nel prossimo turno ma lo facciamo praticamente senza spendere risorse perché ce le abbiamo già subito indietro sì una carta sicuramente come comandante proprio è una carta assolutamente sbroccata da tutti i punti di vista se posso se mi permettete il termine e poi soprattutto in questo set in cui abbiamo tantissime interazioni con l'endfall tantissime terre nuove tantissimi modi per tirar fuori terre dal mazzo ecco che diventa probabilmente una delle carte per commander di zendikar più forti che sono state per adesso di zendikar in generale poi ti direi tutti e tre gli zendikar secondo me la cosa interessante soprattutto mi viene anche da aggiungere è il fatto che adesso è il primo diciamo comandante che si gioca sulle terre che usa questi quattro colori perché prima avevamo avuto dall'anno scorso omnat sempre a tre colori quindi rosso blu e verde questa volta aggiungiamo il bianco che comunque per un mazzo landfall è importante specialmente con le aggiunte di questa edizione anche per esempio con il felidar retreat e ci perde diciamo quello che è il nero se noi pensiamo a un mazzo landfall magari come erano gitrog monster o sempre lodwing grace però ci permette comunque quattro colori per cui ci dà un'ampissima scelta di carte per un archetipo che comunque è già supportato molto e abbiamo visto tantissime aggiunte in questo set aspetteremo il quinto colore quando ritorneremo su zenniker cioè sicuramente sarà comunque un bellissimo ormai devono farlo assolutamente ok andiamo avanti con ora skyclive hierofant è una creatura leggendaria core chierico 3-3 a costo 2 generico 1 bianco 1 nero con legame vitale e quando ora entra o un altro chierico che controlliamo muore fa ritornare una carta chierico con costa di mana convertito inferiore dal tuo cimitero nel campo di battaglia allora è una carta che si sta giocando anche in standard una carta secondo me che può sfruttare anche l'archetipo aristocrats anche i trigger di morte facciamo attenzione che shadowborn apostols non funziona visto che sarebbe zero dopo però ci sono chierici anche più interessanti sicuramente come dici tu però sfrutta solo ed esclusivamente i chierici quindi costruiremo un mazzo che gioca nella spazio aristocrat però concentrandoci comunque su una parte tribale quindi sicuramente le carte come edge walling keeper ci viene in mente che ci fa scontare tutti i chierici di un mana bianco e un mana nero specifici è fortissima e poi ci permette di sfruttare tutte tutte quelle strategie per rigiocarli sacrificarli anche uno dei motivi per cui è schizzato di prezzo perché comunque essendo una carta mi sembra di flagello tra l'altro set che non è un set così costoso a parte credo il signore dei tramutanti o poche altre carte però proprio per questo motivo essendo una carta di un vecchio set ha raggiunto dei prezzi abbastanza importanti ok che altro c'è una carta molto interessante che può aiutarci diciamo in questa sinergia che è Ashes of the Fallen che è un artefatto che ci permette di scegliere un tipo di creatura quando entra in gioco e trasformare in quel tipo di creatura tutte le carte nel nostro cimitero e in quel caso potremmo aprirci veramente a fare qualche tipo di combo per cui noi sacrifichiamo una creatura anche che non è chierico deve essere chierico quando la sacrifichiamo però possiamo tornare a una qualsiasi creatura che vogliamo quindi lo rendi molto flessibile magari in quel caso piuttosto che farlo come comandante lo potresti comunque mettere in ottica aristocrat ad esempio e in quel caso lo metti come una combo aggiuntiva che puoi sfruttare sempre che magari può essere può essere interessante ok andiamo avanti questa è già più interessante dal mio punto di vista e torniamo sulla tematica landfall stavo proprio per dire la tematica omnet e con filat world sculpture è un elementale creatura leggendaria 5-5 che costa 4 generici un verde ed un rosso quando entra in gioco ci crea delle pedine 0-1 verdi pianta una per ogni terra base che controlliamo e in più con un landfall ci mette 4 segnalini su una pianta bersaglia che controlliamo questa è un po' il remake dell'Avenger of Zendikar che era il classico finisher dell'Avenger of Zendikar originale è molto interessante vederla come creatura leggendaria e la cosa che mi piace è anche il fatto che l'abbia reinventata nel senso non ha preso l'assessabilità ma ha dato questo twist che se noi pensiamo all'Avenger of Zendikar originale ci faceva un numero di piante per ogni terra che avevamo ma poi metteva segnalini su tutte le piante che avevamo però uno alla volta invece in questo caso mettere 4 segnalini su un'unica pianta ci permette comunque un approccio un po' diverso perché cercheremo magari di concentrarci su una o due creature un po' più grosse per fare comunque più valore da quel punto di vista anziché avere tante creature separate chiaramente poi la differenza grossa è che questa è una creatura che possiamo usare come comandante certo la cosa che pensavo è che magari anche se uno volesse fare un mazzo piante purtroppo c'è il fatto che ci sia il rosso e spesso non ci sono tanti comandanti cioè ci sono comandanti ma principalmente non includono il rosso e magari poteva essere secondo me una bella aggiunta perché non so potenziare le piante o farne di nuove secondo me era interessante andiamo avanti con Verazold Spirit Current cattura leggendario serpente 0-0 che va giù che costa che entra in gioco con X e una verde e una blu quando entra nel campo entra nel campo di battaglia con un segnino più uno più uno per ogni mana speso per castarlo ogni qualvolta tu giochi una spell con kicker puoi rimuovere due segnalini più uno più uno da Verazold e se lo fai copi quella spell allora l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata kicker è un tipo di abilità estremamente versatile possiamo veramente modellarle in base alle nostre esigenze è interessante perché ad esempio se andiamo a copiare una creatura chiccata copieremo quel permanente quindi già questo è interessante mi immagino anche non so carte come write of replication che con kicker addirittura arriviamo a fare cinque copie più altre cinque con la spell copiata da Verazold per arrivare a dieci copie per carità è una carta che per arrivare a giocarla con kicker ci vorrà del tempo però mi piace sognare sì è interessantissimo sicuramente se riusciamo a fare delle giocate così esplosiva ci sono delle cose che noterei che secondo me chiaramente come hai detto tu hai anticipato il fatto che possiamo copiare i permanenti quindi vuol dire che quando chicchiamo quando una creatura togliendo due segnali da Verazold possiamo averne due quindi aumentiamo la value che possiamo fare tra l'altro mi viene in mente Wolfbrier Elemental sempre in tema pedine che lui può essere moltichiccato pagando un verde e di base ci fa un lupo per ogni volta che l'abbiamo potenziato se noi riusciamo a copiarlo avremo comunque due elementali e il doppio di lupi sicuramente molto interessante l'altra cosa particolare che è bella da notare specialmente giocando a commander è che Verazold entrerà in gioco con un numero di segnalini pari al mana speso per giocarlo quindi ogni volta che il costo è aumentato per la tassa di comando conterà comunque per il numero di segnalini e questo è molto apprezzabile secondo me nel nostro formato sì questa cosa non avevo pensato in effetti in questo modo non so annulli quello che potrebbe essere lo svantaggio spesso della tassa del comandante perché comunque sarà a mano ben speso per creare segnalini quindi assolutamente buona andiamo avanti andiamo avanti c'è un'altra leggendaria a due colori in questo caso stiamo parlando di Yasharn Implacable Earth è un elementale cinghiale che costa due e un verde ed un bianco è un 4-4 e dice quando entra in gioco cerchiamo il nostro mazzo per una foresta e una pianura base le riveliamo le aggiungiamo alla nostra mano mescoliamo il mazzo in più dice come abilità statica che i giocatori compresi noi quindi non possono sacrificare permanenti non terra e non possono pagare vita per lanciare magie o attivare abilità allora questo è abbastanza carino cioè a me piace in generale perché ti fa un po' di value ti cerca due terre tra l'altro potenzialmente possono ripagarci la tassa di commando se venisse poi distrutto ogni volta che lo rigiochiamo le prende in mano quindi non ci rampa però comunque sia noi abbiamo assicurate due land drop per i turni successivi e è interessante poi questa sua abilità di evitare che gli avversari possano pagare vita e sacrificare non permanenti quindi non possono più giocare fetch perché non possono pagare la vita e blocchi tutte le strategie sacrifici tutte le strategie di aristocrat probabilmente quindi alla fine è un po' un hate bear direi o un hate bore stendiamo un velo pietoso comandanti non lo so forse god dog tig che comunque anche lui sì fastidioso un bel po' sì diciamo che può sfruttare questa abilità di rallentare magari le strategie degli avversari e intanto fare dei pezzi che avanzano il tuo board e cercano di vincere in maniera fair cosiddetta ok andiamo avanti con Zagrass Thieves of Heartbeats è una creatura leggendaria vampiro farabutto a costo 4 generi con un nero 1 rosso 4 4 e dice questa magia costa non meno per essere lanciata per ogni creatura nel nostro party a volare a volare tocco letale e rapidità le altre creature che controlli hanno tocco letale e ogni qualvolta una creatura fa danno da combattimento a un placewalker distruggi quel placewalker allora ribadiamo il fatto che party di per sé non è fortissima come abilità come come meccanica però questo può essere secondo me abbinato molto bene a carte che ad esempio fanno danno e si stappano non so goblin sharpshooter ad esempio visto che avrà detta ci riuscirà a praticamente fare board wipe quindi anche questa mi sembra una cosa abbastanza forte non so anche equipaggiamenti anche artefatti come turnbite staff che fanno praticamente la stessa cosa sono molto interessanti non so magari qualche tribal particolare o mazzi che si incentrano principalmente sul death touch su sfruttare questa cosa qui non so dargli anche attacco improvviso così se bloccano cioè distruggono le creature e basta può essere interessante è carino come comandante appunto possiamo sfruttare queste carte che hai detto altrimenti come mazzo nelle 99 magari in qualche tribale in qualche tribale vampiri si potrebbe giocare diciamo che la riduzione di costo secondo me uno o due umana puoi contare di riuscire a toglierlo spesso di più se non stai costruendo il mazzo apposta non credo quindi comunque alla fine è un picchiatore magari se non sfruttiamo bene le sue abilità non vale neanche la pena di giocarlo andiamo avanti invece con Zaret San The Trickster questo secondo me è molto più interessante costa 3 un mana blu e un mana nero è una creatura leggendaria un merfolk farabutto ha flash è un 4-4 e ha due abilità la prima è un'attivata in cui possiamo pagare due mana generici un blu e un nero quindi uno in meno del suo costo normale far ritornare un farabutto non bloccato attaccante che controlliamo in mano al proprietario quindi sostanzialmente ninjitsu ma per i farabutti e mettere lui in gioco tappato attaccante dalla mano in più ha un trigger che funziona sul danno da combattimento al giocatore e ci dice che quando facciamo danno possiamo prendere un permanente bersaglio dal cimitero di quel giocatore e metterlo in gioco sotto il nostro controllo allora chiaramente comparandolo alla yuriko che ha command ninjitsu non regge il passo però anche come comandante anche se non possiamo giocarlo con questa con questa sua abilità possiamo giocarlo a fine del turno di un avversario con flash a costo 5 e il turno dopo possiamo già attaccare magari mettendoci un un mantossetta bisbiglio per dargli imbloccabile e assicurarci già un suo trigger e rianimare un permanente dal cimitero dell'avversario mi sembra un'ottima abilità beh poi ribadisco mi piace molto anche il fatto che i mille o comunque adesso che i rog vadano bene si condiscano bene tra di loro con mille lo trovo molto interessante e non so comandanti comandanti secondo me potremmo sfruttare o una magari perché crea delle pedine farabutto se la nostra build del mazzo è in quella direzione altrimenti il nuovo Anowen di cui possiamo parlare adesso si e infatti Anowen The Roined Thief The Roined Thief allora questa è un'altra carta dei mazzi commander è uno dei comandanti e anche qui penso sia conferma un po' la value che c'è sul macinare e sull'essere aggro con i farabutti allora creatura leggendario vampiro farabutto costo 2 1 blu 1 nero 2 4 dice gli altri farabutti che controlli prendono più 1 più 1 ogni qual volta uno o più farabutti che controlli fanno danno da combattimento al giocatore quel giocatore macina una carta per ogni danno inflitto a loro se il giocatore milla macina almeno una carta tu peschi una carta creatura ah almeno una carta creatura tu pesca una carta sarebbe stato un po' forte in effetti anche questo come Akiri può pescarci massimo una carta per giocatore quindi però a me piace a me piace l'idea del ripeto anche questa cosa del è un ottimo comandante per fare un tribal rogue poi appunto il mille è una cosa secondaria però di per sé fa veramente va a braccetto con Zaret San cioè l'idea di poter non so trovare nel cimitero avversario una carta qualsiasi carta poi permanente quindi anche una terra se uno volesse magari ci sono cose più forti di terra in alcuni casi però anche una singola feccia alla fine può comunque aiutare bisogna stare attenti con Anowon però e Zaret San che dovremo avere dei permanenti già nel momento vi facciamo danno non possiamo sfruttare i permanenti millati con l'abilità di Anowon perché i trigger entrano in pila nello stesso momento quando il trigger di di Zaret San entra in pila dovremo già decidere il bersaglio poi potremo millare le carte dell'avversario questo è un piccolo dettaglio assolutamente da ricordarsi certo parliamo allora dell'altro comandante del Precon questo è Obun Muldayan Ancestor costa uno un verde un rosso e un bianco è una creatura leggendario elfo spirito un 3-3 con due abilità la prima ci dice che all'inizio del combattimento nel nostro turno fino a una terra bersaglio che controlliamo diventa un elementale XX con travolgere rapidità dove X è la forza di Obun rimane una terra chiaramente in più ha un'abilità con Landfall che ci dice quando entra una terra sotto il nostro controllo mettiamo un segnalino su una creatura bersaglio quindi per come è scritta ci verrebbe da dire mettiamo i segnalini su Obun ogni turno animiamo una terra che diventa forte quanto lui e hai due creature allora come Muzz Landfall a me non piace tantissimo cerca di nuovo di sfruttare le sinergie con le terre però è vero che sono dei colori un po' più particolari magari però nello stesso set in cui abbiamo un Omnath del genere mi risulta ridicolo anche solo provarci la cosa carina secondo me è sfruttarlo per questa approccia al mazzo terre un po' diverso che sfrutta le terre animate perché avevamo dalle vecchie zenni che erano un paio di creature molto interessanti che davano ad esempio cautela davano travolgere o davano più due più due a tutte le tue creature a tutte le tue terre quando erano creature che è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato o anche tutte quelle quelle carte come con awakened se non sbaglio che era il costo alternativo per cui potevi lanciare alcune magie per cui facevano oltre al loro effetto trasformavano una terra in creatura ecco secondo me potrebbe essere una strada per rendere più specifico questo mazzo altrimenti appunto non ha molto senso di esistere no sono d'accordo ma stavo pensando anche al fatto che dai core abbiamo anche molti più modi per mettere segnalini anche sulle terre ad esempio e quello può essere comunque una cosa utile di per sé però rispetto ad altri comandanti ci sono comandanti molto più forti rispetto a questo e ti dico tra i due preferisco preferisco a no one mi sembra molto più molto più più stabile la strategia mi sembra molto più definita anche lo puoi anche secondo me fare delle aggiunte secondo me più efficaci rispetto a questo certo sono d'accordo ok passiamo agli artefatti adesso allora artefatti in colori in generale allora partiamo con Forsaken Monument un artefatto leggendario a costo 5 che ci dice le creature in colori che controlliamo guadagnano più 2 più 2 ogni qualvolta tu tappi un permanente per aggiungere un mano in colore aggiungi invece un mano in colore addizionale e ogni qualvolta lanciamo una magia in colore guadagniamo due punti vita bene questa secondo me è direttamente messa dentro Kozylek o comunque Mazzi con Man non ce ne sono tantissimi perché comunque è difficile gestire il fatto che tu non abbia colori quindi Kozylek sicuramente è un bel esempio l'idea anche poi stiamo parlando di permanenti quindi non solo ad esempio Sollaring che ci darebbe tre mani in colori ma pensiamo magari anche terre che ci danno non so ad esempio il Tempio dell'Adea Fasulla o anche un'altra terra che è uscita da poco la vedremo magari nei prossimi podcast e comunque questo è interessante perché normalmente Mazzi del genere cercano di raggiungere un certo mana a una certa comunque dopo un po' e poi forse anche bilanciata perché il costo 5 mi sembra un buon modo per bilanciarla sì sì adesso l'abbiamo vista addirittura a giocare in historic su arena e la cosa anche bella diciamo quando la giochi che magari hai anche una o due terre in più o sassi appunto mana rock che ci danno quel mana in più oltre dopo aver pagato i 5 per cui raddoppiando quel mana lì diciamo riusciamo quasi a rifarci della spesa dei 5 mana nello stesso turno e quella è una cosa fenomenale e anche il pompare di 2 di più 2 più 2 le creature in colori è carino perché se stiamo facendo un tribale al drada chiaramente è molto forte ma anche in un mazzo che ha dei colori dentro ma gioca tante creature artefatto è un ottimo value direi sì spesso magari anche le pedine artefatto spesso non hanno neanche zero forza spesso e quindi magari ogni o anche uno ma magari può permettere di farle attaccare e di più di più di più è tantissimo è molto per un effetto statico insomma ok secondo artefatto bello questo anche questo è un artefatto leggendario anche questo molto molto discorso allora si chiama little form engine costa 4 mana generici e ha 3 abilità sono la prima è paga 2 generici tappa e dice copia una abilità triggerata o attivata bersaglio che controlli puoi scegliere nuovi bersagli per la copia a costo 3 tappandolo possiamo copiare un istantaneo o una stregoneria che controlliamo sempre potendo scegliere nuovi bersagli e a costo 4 possiamo tapparlo per copiare una magia permanente che controlliamo molto 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 forte questo ci permette di fare di tutto perché abbiamo già queste tre abilità molto forti che avevamo visto su diverse diverse carte separate una volta per esempio gli anelli dell'allegro focolare che copiano le abilità attivate o lo streone crescino che copia quelle triggerate e già qua ce le troviamo tutte nello stesso quindi è un pezzo aggiuntivo per mazzi che giocano una di queste due carte o semplicemente un pezzo che ci permette di fare molte più cose diciamo quindi o la sostituiamo o abbiamo un pezzo in più per quelle carte che le usano come combo per esempio brago che usa l'ostreo cresonator per fare blink infiniti però dal mio punto di vista fa così tanto che non so nemmeno dove si potrebbe giocare fa così tanto che mi lascia sconcertato forse non lo so a me sembra comunque una carte cioè proprio perché fa tanto potrebbe essere ovunque cioè ti potrei dire la stessa cosa ma al contrario insomma non so comunque è sempre cioè a seconda di quello che abbiamo è sempre forte fare una cosa del genere pensiamo ok costa 4 copiare una spell permanente però se abbiamo non so se caliamo giù nel drasi già diventa più interessante o non lo so in ottica combo o abbiamo già lo strano cresonator non l'abbiamo trovato mettiamoci anche lì to formigiani comunque noi aumentiamo un po' la redundancy se vogliamo avere quel tipo di strategia lì ok andiamo avanti con relic vial è un artefatto costo 3 generico ci dice paga 2 tappa sacrifica una creatura pesca una carta e finché controlli un chierico relic vial ha ogni qualvolta una creatura che controlli muore ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita più o meno lo stesso power level di lito for men ma sì dai comunque assolutamente comunque magari lo riesci fa un po' da blood artist la cosa che mi piaceva è che se noi abbiamo tanti chierici nel mazzo o magari giochiamo un comandante chierico per esempio Aili mi viene in mente che è un mazzo che sfrutta spesso le sinergie di aristocrats sempre però è un chierico lei stessa quindi siamo quasi sicuri di avercela in campo questo è un altro effetto di nuovo ridondante di aristocrats quindi di far un danno e guadagnare una vita ogni volta che ci muore una creatura e in più ha un sac outlet integrato che pagando due mana ci fa pescare una carta non è tra i più ottimali però secondo me è carino vedere come si possa fare questo doppio doppio ruolo nel mazzo chiaramente sempre solo se giochiamo tanti chierici o se il nostro comandante lo è secondo me sì forse il fatto che appunto se lo prendere al comandante secondo me può essere abbastanza forte assolutamente ok andiamo con skyclive relic molto bella questa carta un artefatto a costo 3 con kicker 3 indistruttibile quando skyclive relic entra nel campo di battaglia si è stato potenziato vengono create due pedine tappate che sono una copia di skyclive relic cosa fa? oltre a essere indistruttibile ovviamente aggiunge un mana di qualsiasi colore e se ci pensi questa è praticamente a costo 6 perché se lo paghi 3 di suo e 3 di kicker abbiamo 3 dark steel ingot e normalmente il dark steel ingot è la stessa cosa ma non lo può fare non può essere potenziato quindi credo che rimpiazzerà subito questa carta qui e devo dire che con carte che raddoppiano le copie come non so lo citiamo sempre ma stagione del raddoppio comunque ci metterà altre due altre due token e a me sembra fortissimo è ottimo sicuramente allora è chiaro che in questo momento magari si tende a togliere le rocce che danno mana a costo 3 però sicuramente come dicevi tu se giochiamo un dark steel ingot dovremmo sostituirlo per questa perché fa la stessa cosa ma meglio ha solo una possibilità in più quindi sicuramente è una carta che è ottima già di per sé se noi pensiamo un dark steel ingot si giocava tantissimo finora quindi andiamo avanti bene penso abbiamo quasi finito in realtà perché siamo arrivati alle terre ma in realtà la maggior parte delle terre ne abbiamo parlato nella vecchia puntata quando abbiamo parlato delle pathway anche nei vari vantaggi e la carta forse che ci interessava di più è crawling barrens questa è molto carina riprende un po' quel ciclo di terre animabili della vecchia zendikar però in una maniera un po' particolare vediamola allora è da un mana in colore entra stappata quindi ottima cosa e possiamo pagare quattro mana per mettere due segnalini su crawling barrens e poi decidere se farla diventare 1-0-0 elementale fino a fine turno che rimane una terra è molto carina perché ci mette ci mette dei segnalini quindi vuol dire che ogni volta che noi utilizziamo questa abilità potremo farla diventare sempre sempre più grande e questa è una cosa molto molto forte che ci permette anche di andare in sinergia con mazzi che usano segnalini più uno più uno ad esempio Obun l'abbiamo parlato prima può essere un esempio poi ho visto che si sta giocando anche abbastanza in standard perché comunque questa cosa del i mazzi tempo in cui cercano un po' più lenti puoi potenziarla in continuazione perché non è che i segnalini vanno via quindi questa cosa che rimangono i segnalini è veramente interessante non so da altri punti magari mazzi in colore non lo so che tipo di dove si potrebbe mettere questa parte se noi pensiamo come vengono usate le manland che sono le altre le altre terre animabili normalmente si sfruttano principalmente nei mazzi control negli altri formati e secondo me questo non le rende molto forti in commander normalmente appunto perché magari spendere 5 mana per trasformarla e una creatura in un 4-5 in un 4-4 magari attaccare un giocatore sola è proprio poco efficace in commander in cui abbiamo altri tuoi avversari che non stiamo attaccando in quel momento e in cui abbiamo speso una risorsa così alta per fare magari anche 4 danni che su 40 punti vita sono pochi effettivamente secondo me per quello non le vediamo normalmente in questo caso come dici tu sfruttando la sinergia dei segnalini in più in più magari ha qualche possibilità in più quello che dicevi tu nei mazzi in colori sicuramente è un'ottima carta perché se noi pensiamo a un mazzo che gioca normalmente le ways per esempio appunto un mazzo con un generale il draft che non può usare terre colorate chiaramente al costo di togliere una base assolutamente poi non lo so appunto secondo me in alcune meccaniche che sfruttano i segnalini più uno più uno è molto utile anche tanto si ripete sempre le stesse da blink season o anche l'osolite può essere utile se fai spacca terre puoi rimuovere i segnalini e metterli sull'osolite comunque interessante citiamo almeno una volta Trax sì almeno una volta visto che nonostante sia a penzoni dei mazzi più giocati non ne parliamo mai poverina vuoi per odio vuoi per non so che altro però non so chiaramente è perché è quasi scontata sempre parlare ogni volta che si parla di segnalini più uno più uno sappiamo che c'è anche lei in the back of our mind esatto ecco ce l'abbiamo fatta abbiamo parlato di tutte le carte di cui volevamo parlare è stata lunghissima grazie per averci seguito fin qua è stata due puntate tra l'altro contando anche la prima in cui parlavamo di zandica generale molto lunghe e c'era moltissimo da dire sì spero che questo format o comunque questo modo di spiegare le carte vi piaccia fateci sapere ovviamente dateci feedback ci servono ci servono per capire come possiamo migliorare fateci sapere anche cosa ne pensate voi se ci sono magari delle carte che non abbiamo detto che meritavano almeno uno spazietto in questi tre ore di complessive di revisione delle carte bene che dire grazie anche per questa puntata di casual commanders è tutto ci vediamo come sempre ogni settimana e alla prossima ciao ciao che ne pensate voi di questo ritorno a zendikar e delle nuove carte modali doppia faccia fatecelo sapere nei commenti e come sempre ricordate di mettere mi piace al video condividere ed iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di magic the gathering ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale da Egao e Lazze ciao e alla prossima ciao 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 ciao